Ora si registrerà la conferenza. Avrà l'onore e l'onore di moderare quella di domani. Come vi ho detto era previsto l'intervento di Marco Portopapa che però non ha potuto raggiungerci e Andrea lo ha legnamente ricordato. Però adesso ne abbiamo un intervento di Giuseppe Corfi direttore del CREA che ci ha inviato un suo contributo audio video registrato e lo mandiamo. Vediamo. Buon pomeriggio. Mi scuso per non essere presente a questo evento e ringrazio la Regione Piemonte per aver contribuito all'organizzazione e l'IPLA in quanto padroni di casa. Devo ringraziare anche Roberta Farina in quanto coordinatrice del progetto Soy Hub che è una parte del più grande progetto che è detto AGP Soy di cui è coordinatrice nazionale Maria Fantapie. Entrambe del CREA, agricoltura e ambiente. Monitorare il suolo, estimare la biodiversità. Temi enormi, grandissimi di portata nazionale, importantissimi anche in visione del fatto che a breve, grazie ai soldi che verranno dal PNRR con il contributo fattivo, organizzativo da parte del MASE, avvieremo un progetto che è quello della definizione della carta dei suoli al 100.000, diciamo un'attività di portata definirei epocale. Basti pensare che l'ultima volta che è stato fatto un progetto di questo tipo era la carta 1 a 1 milione, era il 1961. Nel 2022 abbiamo pubblicato la carta 1 a 500.000, quindi questo nuovo progetto della carta 1 a 100.000 ha veramente un'importanza strategica per il Paese e si inserisce perfettamente in questa fase di monitoraggio del suolo. Perché è importante? È soprattutto importante anche la biodiversità, perché è da lì che traiamo la fertilità del suolo, ma non solo. Anche la possibilità di poter avere un suolo che si mantenga in salute. Tema estremamente, anche questo è importante, soprattutto quando prendiamo in considerazione, paradossalmente, qualcosa che avevamo sotto gli occhi ma che abbiamo sempre trascurato, vale a dire la pedofauna. Sono quegli animaletti piccoletti, un paio di millimetri, 5 mm, che avremmo potuto vedere da sempre, anche con l'aiuto magari di una lente, che abbiamo trascurato, dando sempre molto più importanza alla biodiversità microbica, fungina e altro. Ecco, questi argomenti, finora qualche volta trascurati, è bene che vengano ripresi in progetti di così ampio interesse, così che possiamo avere una risamina completa di chi lavora nel suolo, di cosa effettivamente fa per il suolo e soprattutto per la sua salute, a tutto vantaggio della nostra agricoltura. Grazie e buon lavoro. Benvenuto direttore del CREA a AX, tra l'altro il dottor Corti ha improdotto un tema interessantissimo, che è quello della cartografia dei suoli e anche delle scale della cartografia del suolo. Ha citato la cartografia storica a un milione dell'Italia, tutte le regioni hanno fatto la cartografia a scala 1-250 mila sul contributo del Ministero e poi ciascuna regione ha, a seconda della necessità, della disponibilità economica e anche della visione che ha potuto mettere in campo, fatto cartografia di maggior dettaglio. Il Piemonte, ad esempio, ha una carta a scala 50 mila su tutte le aree di pianura, di collina e sui rilievi morenici. Abbiamo in atto adesso un progetto appena iniziato di cartografia dei suoli a scala 1-50 mila di tutte le aree pedemontane fino a mille metri di fuori, diciamo tutte le aree che hanno ancora oggi un qualche interesse agricolo o anche agricolo forestale, parlando di castranicoltura da frutto. Io ho il compito di fare semplicemente un intervento introduttivo per provare a mettere i temi che andremo, andrete a trattare sul tavolo e provare a iniziare a fare una prima considerazione anche parlando un po' dell'esperienza piemontese. Eccoci qua. Ah sì, giusto, condividiamo lo schermo per chi ci segue da casa. Allora, intanto ho provato a mettere giù un indice di quello che sarà la trattazione dei nostri interventi che si seguiranno fra oggi pomeriggio e domani mattina. Intanto dal globale al locale, dal locale al globale. L'ho messo perché ricorderete tutti come nel 2006 la prima strategia tematica dell'Europa abbia creato una svolta un po' per tutti, in particolare per noi che ci occupiamo di ricerche, di studi sui suoli, ma anche dal punto di vista politico ha creato una svolta, cioè ha messo al centro del dibattito tecnico, scientifico, ma anche politico, il tema del suolo, individuando le minacce e individuando dei percorsi che ogni Stato avrebbe dovuto realizzare. Purtroppo in quell'anno, ricorderete chi aveva seguito quella vicenda, c'era una direttiva agganciata alla strategia tematica che di fatto era già pronta, ma che purtroppo, purtroppo dico per noi, non fu emanata. Dico purtroppo perché l'Italia, è una caratteristica negativa direi del nostro paese, tende a legiferare il campo ambientale quando c'è una direttiva europea che impone di fare dei passi avanti. È accaduto con le acque, è accaduto con l'aria, è accaduto sui fitofarmaci, è accaduto per l'agricoltura e via dicendo, è accaduto per i rifiuti e purtroppo sul suolo non è accaduto tanto che l'Italia ancora oggi non ha alcuna normativa di riferimento. Però malgrado quello, quel 2006 è un anno importante che ha costruito un percorso, un percorso che è stato ad ostacoli perché è stato molto lento, molto difficile, ma che continua ad andare avanti e oggi parleremo di nuovi passaggi anche a livello europeo che sono in arrivo, cioè la direttiva europea sul monitoraggio del suolo. In tutto questo si inseriscono il progetto Soilab che è un po' il cuore del nostro dibattito e la dinamica e il rapporto che esiste tra le conoscenze a livello nazionale, le banche dati nazionali, le conoscenze a livello locale regionale e le banche dati regionali. E anche qua proveremo a fare qualche ragionamento insieme su quale deve essere il rapporto, quale può essere il rapporto che esiste tra i vari livelli perché ovviamente la ragionevolezza ci farebbe dire che occorre trovare metodi condivisi sovraregionali e sovranazionali che ci facciano andare all'obiettivo tutti insieme. Questo diciamo più dal punto di vista, se vogliamo politico, dal punto di vista più scientifico proveremo, ripeto, proverete soprattutto ad entrare nel tema dell'ecosistema al suolo perché anche qua per noi che ci lavoriamo da molti anni è ovvio dire che il suolo è un enorme contenitore di sostanza organica, che ha un enorme potenziale dal punto di vista ancora dell'accumulo di sostanza organica, che è il maggior contenitore di biodiversità delle terre emerse, però sono cose che obiettivamente ciascuno di noi nei rapporti con i propri amici, conoscenti, familiari, si rende conto quanto poco sia di conoscenza del pubblico l'importanza del suolo, le potenzialità del suolo, i servizi ecosistemici del suolo. E quindi qualità biologica del suolo e indicatori della qualità biologica, biodiversità e monitoraggio della biodiversità, rapporto che esiste tra dati cartografici, pedologici e biodiversità e qualità dei suoli sono argomenti che tratteremo, così come lo sviluppo rurale che è il principale finanziamento che arriva dall'Europa, tutte le nazioni d'Europa e in tutte le regioni d'Europa, che ha avuto, speriamo abbia sempre di più, un potenziale per andare a migliorare la biodiversità e lo stato dei suoli. Anche questo proveremo a mettere sul tavolo qualche dato. Entrando su questo e parlando dell'esperienza piemontese, quindi non volendo assolutamente generalizzare, noi abbiamo un progetto con la regione Piemonte che ci consente, ci impone, di fare il monitoraggio ambientale, il monitoraggio delle misure ambientali del programma di sviluppo rurale. Quindi sostanzialmente siamo l'ente che per conto della regione misura per misura prova a verificare che sia l'efficacia delle misure stesse rispetto agli obiettivi che si erano posti. E effettivamente anche grazie al nostro monitoraggio nei vari PSR passati che si sono succeduti ci sono state delle modificazioni, degli aggiustamenti di tiro proprio perché i dati magari dimostravano che quella misura non era efficace che era meglio puntare sull'altra misura e quindi si è trovato un compromesso tra le cose verificate sul terreno e le volontà desiderata di chi decide poi a livello politico dove destinare i tanti soldi che vanno allo sviluppo rurale. Ovviamente siamo in una fase di passaggio, cambia quasi tutto, a cominciare dai termini perché anche sulle parole c'è una rivoluzione ogni volta che cambia il PSR in particolare in questo caso, non sono più misure, quindi dovremmo abituarci con tutte le nuove terminologie. Parlando di carbonio organico e seguendo ormai da molti anni il tema carbonio organico e suoli noi abbiamo verificato che negli ultimi anni, anche se non possiamo dirlo a livello di tutta la regione perché noi andiamo avanti come dicevamo poco fa con il dottor Petrella a fare lotti di rilevamento che si concentrano in alcune determinate aree della regione, quindi non abbiamo un quadro anno per anno complessivo di qual è lo stato del carbonio nel suolo, però è evidente come rispetto agli usi del suolo, in particolare sui frutteti e sui vigneti, vi sia una tendenza all'aumento del carbonio organico e effettivamente l'ultima programmazione 2015-2022 ha coinvolto il 15% della SAU, della superficie agricola che viene utilizzata in Piemonte, che è circa un milione di ettari per tagliare tutto con l'accetta, il 15% della SAU è stata coinvolta in misure che miravano al mantenimento e al sequestro del carbonio. Dire che queste misure abbiano avuto diretto effetto è forzato, sicuramente forzato, però sono due cose sicuramente vere. Da una parte c'è la constatazione dell'aumento della sostanza organica, dall'altra il fatto che il 15% del territorio è stato coinvolto da misure dirette o che hanno effetto indiretto rispetto al carbone. Anche qua mettendo qualche dato, qualche numero, parliamo di 136 mila ettari, dicevo prima che siamo poco sotto un milione di ettari, e vedete che confrontando i dati di carbonio organico pre-2010, post-2010, questo per evidenziare le differenze che sono ovviamente molto più grandi se si utilizzano dati più vecchi rispetto a quelli più recenti, le classi con carbonio organico, parliamo del topsoil ovviamente, non l'ho detto ma questo è sottinteso, parliamo del topsoil, le classi con carbonio organico più elevato conquistano territorio a spese di quelle con carbonio organico meno elevato. Quindi questo è un dato tendenziale che non so se si è riscontrato in tutte le regioni ma che noi abbiamo verificato. semplicemente per aprire il dibattito, poi ognuno di voi entrerà nello specifico della propria materia e proprio intervento. Rispetto alla biodiversità, tema ancora più difficile perché il carbonio è un'analisi, poi ha tutti dei limiti se vogliamo, perché è puntuale, difficile territorializzarla, difficile legarla alla tipologia pedologica perché c'è l'uso del suolo che può ovviamente influenzare moltissimo la quantità di carbonio, ancora nel più difficile entriamo quando parliamo di biodiversità. Noi abbiamo il compito di monitorare la biodiversità e utilizziamo, prima di parlare di suoli, tutta una serie di altri indicatori che vedremo. Ma io parto dai risultati. Questi sette anni che cosa ci hanno detto? Beh, ci hanno detto intanto che l'intennità compensativa è stata sicuramente efficace per mantenere in salute l'habitat di montagna e in questo ovviamente parliamo di cose anche più semplici perché un presidio agricolo di montagna è sempre un presidio agricolo, tendenzialmente di basso impatto, però il mantenimento di questi presidi è stato certamente difficile. L'innerbimento delle colture, e parliamo fruttetti e vigneti essenzialmente, in Piemonte poi c'è il tema noccioletti che sta diventando molto importante, ci sono ormai più di 20.000 ettari di territorio coltivati a nocciola ed è una cultura sicuramente intensiva, sicuramente impattante. L'innerbimento delle colture ha avuto certamente effetti positivi che hanno contrastato il degrado di quelle superfici, spesso superfici delicate, non sono della sostanza organica ma anche dell'erosione, perché i vigneti e i noccioletti stanno tendenzialmente in area collinare, superfici molto erodibili. La gestione ecosostenibile dei pastoli, quindi la riduzione del carico di bestiame rispetto alla superficie, ha avuto degli effetti positivi, come la conversione dei similativi in prati permanenti e che ha creato un mosaico ecoculturale, un mosaico culturale che vedremo è un po' la chiave, è stata un po' la chiave per il miglioramento della biodiversità. Come sapete poi Piemonte e Lombardia hanno anche il tema delle risaie che noi abbiamo affrontato con la creazione sostenuta, con il PSR, di un fosso di adacquamento permanente che consente all'interno la riproduzione delle specie che utilizzano l'acqua per i propri cicli biologici e abbiamo verificato un aumento di biodiversità, va detto biodiversità di specie all'ottone, quasi probabilmente, che però sono risultate essere ovviamente anche cibo per la bifara. Come dicevo però i dati sono contrastanti, guardando gli indici, noi ormai da molti anni seguiamo il Bird Index, quindi diciamo la bifauna, seguiamo i lepidotteri, il monitoraggio dei lepidotteri, da qualche anno le api, abbiamo qua Maurizio Pirino che è la persona che sta seguendo tutto e come vedete da queste pochissime parole i risultati sono contrastanti. Negli anni l'indice della bifauna sia agricola sia risicola è in costante diminuzione, è una diminuzione non estemporanea un anno per l'altro, ma è in costante diminuzione, al contrario accade per la bifauna di natura forestale che invece è in costante aumento, nel costante aumento c'è anche il fatto che i boschi comunque stanno continuando ad espandere il loro territorio, adesso non lo vedete lì dietro ci sono manifesti con dati sui boschi del Piemonte, per il Piemonte 2 milioni e mezzo di ettari, ormai abbiamo un milione di ettari di territorio che sono coperti dal bosco con un incremento che prosegue ovviamente a un incremento che va a colpire soprattutto le aree marginali per l'agricoltura sia collinari sia pedemontali e questo è legato alla bifauna forestale. L'indicatore delle lepidotteri segnala che in generale le aree coltivate sono povere di specie sia dal punto di vista del numero di specie sia dal punto di vista degli individui con un focus negativo per i vigneti e per i frutti. I prati permanenti di pianura e le pratterie di collina hanno come prevedibile anche un indice molto più interessante e molto più alto che in Piemonte si rivela stabile, non ha un gradiente in più in meno a differenza di un gradiente europeo che invece è definito in declino. Come dicevo però in tutti i casi se dovessimo fare una sintesi, la sintesi della sintesi, il mosaico ecoculturale, cioè quindi la differenziazione tra culture, prati, filari, habitat naturali, piccole fasce boscate, diciamo il mosaico è la condizione migliore per maggiore biodiversità rispetto a qualsiasi altra situazione. E le api che sono entrate in ultimo a darci una mano per verificare questo elemento ci confermano esattamente questo, cioè l'eco mosaico, il mosaico ecoculturale è il migliore anche per le api ancor più del rispetto ai testimoni naturali che sono stati utilizzati. Eh non vale perché lì c'era scritto, c'è una scritta che non appare più, perché ve la dico a voce, e il suolo, punto interrogativo, l'avete fregato, l'ha fregato del colpo di scena, e il suolo, cioè queste qua diciamo è la parte che vediamo sopra il suolo, e nel suolo, beh non entriamo nello specifico perché ci saranno i miei colleghi che racconteranno, anche di voi che racconteranno che cosa è, quali sono le nostre ricerche. Per chiudere, la nuova programmazione, il Quassimo Navagnina poi entrerà nello specifico, quindi non dico sostanzialmente nulla, però la nuova programmazione, cambiando tutti i termini, quindi parliamo di interventi agroclimatico ambientali, di ACA, non si parla più di PSR, non si parla più di sette anni, comunque cambia completamente tutto, però grazie all'esperienza di tutte le nostre regioni, e probabilmente non solo dell'Italia, e grazie alle ricerche che sono state fatte, ci sono parecchi interventi che potenzialmente vanno a incidere proprio in un miglioramento della biodiversità, in un aumento della sostanza organica. Poi hanno messo alcune, la produzione integrata, le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, su questo abbiamo partecipato anche con Regione Lombardia al lancio di un progetto LIFE che poi ormai è concluso, l'apporto di sostanza organica dei suoli, l'innerbimento delle colture albore, le colture di copertura, la gestione sostenibile dei pascoli, ma ce ne sono delle altre, ma solo per segnalare che anche nella nuova programmazione, negli anni che abbiamo davanti, questo tema diventa sempre più un tema importante. Anche in questo caso, ed è l'ultimo che non appare chiaramente, perché non so per quale motivo, lanciava la questione del monitoraggio, che è il prossimo intervento che segue il mio, perché ovviamente sappiamo che quei temi, che quegli interventi sono interventi fondamentali, ma è importantissimo riuscire a monitorare, a numerizzare, a validare quello che sta succedendo e in questo senso il monitoraggio del suolo diventa un tema importantissimo, non solo rispetto ai parametri storici, chimico-fisici e anche solo del carbonio, ma proprio rispetto anche alla biodiversità. Io vi ringrazio, intanto ringrazio nuovamente tutti voi di essere qua e possiamo entrare nel vivo del nostro convegno parlando proprio della proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo e sulla resilienza con Francesca Senato, ricercatrice di Ispra, che ci illustrerà proprio quello che sta per capitare dopo in queste ore. E grazie a tutti. Ecco, grazie a tutti. Mi dispiace di questo piccolo ritardo, ho sentito però buona parte di questa introduzione e quindi vado velocemente a condividere una breve presentazione. sembra che non sia possibile, non so per quale motivo. Ok, sì, dovevo dare un'autorizzazione, scusatemi, non utilizzo questo sistema normalmente, vediamo se ora me lo consente. Mentre cerco di risolvere il problema, diciamo alcune delle cose che volevo dire le posso anticipare. È in corso, come sappiamo tutti, la discussione della proposta di direttiva che è stata presentata a luglio, dopo una fase di apertura alle osservazioni da parte del... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso dovremmo essere in grado di farvi vedere anche la presentazione. Vi chiedo di confermarmi che vediate la presentazione. Scusate. Perfetto. Perfetto. Allora, come vi dicevo, questa proposta è stata presentata a luglio, c'è stata un'apertura alle osservazioni da parte sia della comunità scientifica che delle amministrazioni che della società civile fino al 3 di novembre, dopodiché è iniziato un lavoro di confronto tra la Commissione e gli Stati membri su alcuni aspetti, diciamo articolo per articolo, sulle principali proposte di modifica o integrazione o chiarimenti che gli Stati membri hanno richiesto. Il Ministero dell'Ambiente che è in carico per questa attività ha coinvolto anche ISPRA, in particolare la mia collega Anna Luise e la sottoscritta per supportare questa discussione anche attraverso le osservazioni che sono pervenute attraverso un tavolo di lavoro che è stato organizzato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito dell'osservatorio per l'economia circolare che ha coinvolto anche le regioni, quindi molti di voi hanno già posto osservazioni, ha partecipato, ha ascoltato, ma anche attraverso la rete degli osservatori regionali, noi ci siamo riuniti lo scorso lunedì, quelli sul consumo di suolo, quindi tanti tavoli, tanti consensi in cui abbiamo cercato di raccogliere, nonché ovviamente JPSOIL e ABSOIL, osservazioni per incanalare la discussione. Cosa ne è emerso? Allora qui c'è il riassunto della struttura della direttiva, ma la sappiamo a memoria e quindi penso che possiamo saltare questa slide. Dalle osservazioni che sono venute da tante parti, naturalmente c'è il sostegno agli elementi cardine della direttiva che sono questi esemplificati in questa slide, in questa immagine, ovvero una direttiva che finalmente si occupa di tutti i suoli, quindi considerando il suolo in quella maniera olistica che da tante parti era stata negli anni scorsi richiesta, una direttiva flessibile con un intervento proporzionato e che salvaguardi le esperienze già in corso nei diversi stati membri, nelle diverse regioni e un approccio per fasi affinché non sia troppo pesante per gli stati membri, ma anche per la comunità scientifica, mettere in piedi un sistema di monitoraggio e un sistema di analisi della salute del suolo e di valutazione per la definizione delle misure da prendere rispetto ai diversi descrittori che sono stati proposti e che saranno discussi nei prossimi giorni. Due aspetti specifici che sono stati oggetto di discussione ampia ma che probabilmente saranno definiti poi in seguito alla identificazione delle principali elementi del sistema di monitoraggio sono i distretti del suolo e il meccanismo di certificazione volontaria. I distretti del suolo perché le strutture gestionali delle informazioni esistenti che abbiamo nei diversi paesi sono talmente diverse che un'unica architettura valida per tutti sarebbe stata molto stretta a molti in Italia, quindi abbiamo ampio margine per discutere e decidere in che maniera è più adeguata a rispondere alle esigenze della valutazione delle condizioni del suolo e delle misure da prendere. La certificazione volontaria che alcuni Stati membri hanno proposto che diventi un meccanismo volontario di certificazione volontaria, ovvero non un obbligo per gli Stati membri di istituire il meccanismo, ma anche lasciato alla libera scelta dello Stato membro se istituirlo o no. Questo perché c'è molta preoccupazione intorno a questa certificazione che invece la Commissione propone come un meccanismo per incentivare, per, tra virgolette, premiare gli sforzi per la gestione sostenibile del suolo. Quindi probabilmente superate le prime momenti di incomprensione o comunque di assestamento si potrà andare più facilmente verso un meccanismo presente in tutti i paesi. Che tempi abbiamo? Come dicevo si è chiusa la consultazione col pubblica il 3 novembre, ora c'è questa discussione con le rappresentanze che terminerà entro il 14 perché il 18 c'è il dicembre, si terrà il Consiglio Ambiente, quindi i Ministri dell'Ambiente discuteranno della proposta e dopodiché la Commissione presenterà la versione definitiva della proposta per la discussione al Parlamento. naturalmente tra discussione, elezioni europee, entrata in vigore, si è approvata, eccetera, ci vorrà un annetto buono. Da quel momento, che ragionevolmente dovrebbe essere inizio 2025, gli Stati membri avranno due anni per il ricepimento della direttiva della normativa nazionale, negli stessi due anni dovranno essere definiti i soil districts e si hanno invece quattro anni per completare il monitoraggio, quindi sostanzialmente si immagina di avere due anni per mettere in piedi il sistema e due anni poi per materialmente raccogliere i dati, più un anno per fare la valutazione delle condizioni di salute del suolo, che quindi verrebbero fatte cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Sono tempi tutto sommato lunghi, se pensiamo alle urgenze che tutti conosciamo delle problematiche del suolo da affrontare, ma anche abbastanza brevi con il pensiero agli investimenti e alle necessità di predisporre sistemi e architetture anche amministrative di gestione di tutto questo nuovo impianto. Molto brevemente che cosa è stato rappresentato maggiormente nella discussione è una risposta positiva della maggior parte degli stati membri a questa proposta, seppure da molte parti arrivano richieste di depotenziamento di una parte piuttosto che di un'altra, però complessivamente non c'è nessuno che ha detto no, non vogliamo proprio che si adotti questa direttiva. Dal punto di vista nazionale, tutte le osservazioni che abbiamo ricevuto sono molto positive in quanto si colma un voto legislativo europeo e ci aiuta a rimettere a sistema il sistema normativo nazionale che su alcuni aspetti è già avanti come per esempio la normativa sulla contaminazione dei suoli, su altri aspetti è lasciata diciamo alla iniziativa delle regioni e in maniera più soft all'interno delle strategie di sviluppo sostenibile o marginalmente di altre direttive, oltre a tutto l'impegno che naturalmente è stato già descritto delle misure adottate nell'ambito della politica agricola. L'altro elemento rilevante è in questo anche il progetto JP Soil ha dato il suo grande contributo, è quello di costruire un linguaggio comune per il monitoraggio perché ciò che è emerso è che davvero ci sono rilevanti differenze e un chiarimento anche sul significato dei termini e sul come si vuole affrontare questo monitoraggio era assolutamente opportuno, incluso il discorso dei descrittori, dei metodi, dei valori soglia, su questo diciamo sicuramente la discussione che ci sarà oggi e domani produrrà ulteriori commenti e riferimenti quindi se poi ci saranno sui singoli descrittori, sui singoli metodi, sui singoli valori soglia io vi prego di trasmettermi queste ulteriori osservazioni rispetto a quelle trasmesse in precedenza in maniera da poterne tenere conto. La commissione ha rimarcato il focus sul approccio dei servizi ecosistemici identificando questo concetto di perdita critica di servizi ecosistemici che viene sostanzialmente associata alle condizioni di non salute del suolo. Su questo discorso sono state fatte molte osservazioni, sono state chieste certamente dichiarimenti e la predisposizione di linee guida da parte della commissione che ha confermato che ne darà, ma è stato anche, come anche proposto dallo stesso IJP Soil, discussa la possibilità di trasformare il meccanismo one out all out che è stato inizialmente proposto dalla commissione nell'articolato in un sistema più elastico a semaforo che consenta di evitare di etichettare come non sani i suoli con un solo descrittore fuori soglia. Questo perché da molte parti c'è un'attenzione all'aspetto anche comunicativo e agli interferenze che potrebbero esserci non solo nella compravendita di suoli e nella vendita di prodotti ma anche aspetti trasfrontalieri, quindi competizioni e quindi un approccio più elastico è stato proposto e vedremo se sarà poi accolto. Sul discorso del consumo di suolo abbiamo chiaramente rappresentato il fatto che l'Italia in questo, così come sulla contaminazione, è già avanti, avendo già un monitoraggio idoneo a rispondere agli obblighi di direttiva e ci sono state alcune osservazioni da parte di altri strati membri sulla non necessità in generale di monitorare il consumo di suolo, ma parliamo per esempio della Svezia che ha tutt'altro i problemi, oppure di una difficoltà nel mantenere la frequenza annuale, ma questo diciamo con l'occhio al utilizzo dei dati satellitari come fonte di informazione per questo monitoraggio dovrebbe essere rendere possibile il monitoraggio annuale senza eccessivo sforzo da parte degli stati membri. Sulla contaminazione e la normativa, scusate c'era un errore nel testo, perdonatemi, abbiamo ribadito che la nostra normativa è coerente con la proposta di direttiva, ci sono alcuni aspetti che vanno messi a punto, in particolare sui siti potenzialmente contaminati, sul momento in cui deve essere effettuata la caratterizzazione, abbiamo proposto di inserire come fase e come anche tra le definizioni dell'articolo 3 la caratterizzazione del suolo come da nostra normativa e abbiamo già un sistema di indicizzazione e di riporto delle informazioni preparato da ISPRA, il sistema mosaico che già è adeguato a rispondere agli obblighi di registro in larga parte. Sul sistema volontario di certificazione vi ho già detto prima, alcuni elementi sui descrittori qui veramente in maniera molto rapida perché a parte che questa discussione nello specifico sarà fatta il 14 dicembre, ma alcuni aspetti sono già stati rappresentati, in particolare sull'erosione del suolo c'è una convergenza piuttosto ampia di molti paesi che hanno rappresentato che la soglia delle due tonnellate a torano è troppo bassa, peraltro anche la solidità scientifica del riferimento non è fortissima, quindi diciamo basare un'intera definizione di suolo non sano su una soglia del genere aveva molta criticità da parte di parecchi stati membri e abbiamo inviato una nota specifica su questo aspetto che è stata anche condivisa con la collega fatta a piedi nei scorsi giorni. La perdita, cioè era già stata predisposta ma abbiamo condiviso alcuni dettagli. La perdita di carbonio organico è stata rappresentata come da molti, anche da molti di voi, sottolineato nelle varie occasioni che il rapporto carbonio-argilla per i suoni minerali è fuori scala e che comunque andrà impostato un sistema di fattori correttivi, quindi diciamo c'è necessità di adeguare questo descrittore e le metodologie di valutazione alle condizioni dei singoli distretti del suolo. Situazione analoga per altri parametri come il tenore di nutrienti in cui viene richiesto di affiancare al criterio del suolo anche altri parametri o per i metalli pesanti. Molti paesi membri hanno sottolineato il fatto che è necessario aggiungere i metodi ISO già utilizzati o già utilizzati per la normativa nazionale in campo di bonifiche. Sulla compattazione del sottosuolo è stata rappresentata la necessità di considerare alcune esclusioni specifiche e sulla perdita di biodiversità del suolo come anche proposto dal progetto Minotaur, sempre di EGP Soil, è stato proposto di considerare la QBS come tecnica di metodologia per la valutazione di questo descrittore. Io ho terminato questa brevissima presentazione, però sono disponibile se ci sono domande e richieste di approfondimento sono le benvenute e vi rammento che sui descrittori se avete commenti specifici vi prego di mandarceli così da poterne tenere conto al meglio e vi ringrazio. Ringraziamo noi Francesca Senato e se ci siamo in anticipo di un quarto d'ora che non vuol dire che dobbiamo perdere mezz'ora però ci sono domande anche subito rispetto alla questione direttiva in generale o rispetto alle questioni più specifiche che Francesca ci ha illustrato, possiamo anche farle, metterle in campo, lei è disponibile anche da parte di chi è collegato non necessariamente solo da chi è qui in sala e in Italia da noi. Vengo al microfono, scusami. Avrei una curiosità, ma quali sono i paesi che hanno proposto questo rapporto tra carbonio organico e argilla cioè che difendono questo tipo di, immagino quelli del nord Europa, questo tipo di valutazione sul livello ottimale o accettabile di carbonio organico dei suoi, che tu sappia, insomma se lo sai? Allora, da quanto ho potuto capire perché diciamo, essendo una discussione che è stata molto diciamo sul lato amministrativo e poco tecnico finora il 14 ci sarà quella nel merito degli aspetti più tecnici ma i paesi che hanno già un sistema di monitoraggio impostato su quel parametro vogliono mantenerlo perché già hanno diciamo organizzato le loro valutazioni sulla base di questo non c'è stato nessuno che ha detto no no assolutamente noi vogliamo quel parametro c'è stato qualcuno che ha detto non ci va bene, aggiungiamo, non è adeguato eccetera però ecco, se siccome so che è una materia di tuo diretto interesse mi riguardo bene gli appunti e ti faccio sapere se ci sono elementi che sono già emersi finora sicuramente usciranno fuori il 14 dicembre e quindi su questo facciamo in modo di segnarcelo e farti sapere Grazie Francesca, Rosario Napoli anche lui Vengo al microfono, ciao Francesca Ciao Rosario Dunque, io ho una domanda e una considerazione la domanda parte dalla questione dei distretti che poi è collegata a una questione che io cioè c'è un grande rimosso qui secondo me in questa storia della soil health law cioè l'idea balsana perché questa è l'idea balsana di proporre le stesse soglie per tutti i tipi di suoni in Europa questa è nessun pedologo diciamo sano di mente si potrebbe diciamo azzardare perché se si va a guardare anche a livello di primo gruppo referenziale ma anche di secondo c'è la carta al 250 mila di soil ma anche il milione stiamo al milione ma ci sono centinaia e centinaia di tipi di suoni diversi di climi diversi, di gestioni diverse cioè pensare che la soglia socca argilla valga per come si chiama i cernos iom o i pozzol belgi piuttosto che per i suoni o i calci o gli arido solo spagnoli di cartagena cioè la stessa soglia ma questa è una cosa che io mi meraviglio che nessuno abbia sollevato cioè è stato chiaramente impegnativa poi definire le soglie significa mettere un gruppo di lavoro che si spenna sulla bibliografia di tutti i lavori fatti in Europa e a grandi linee la mette in piedi chiedo quindi se questa cosa che è collegata con i distretti perché i distretti cioè la soluzione è banale ripeto paesaggi che puntano a tipi di suoni diversi i distretti amministrativi è ovvio che se si vale in Belgio c'è un'amministrazione di un tipo nel quale è un altro non se ne esce fuori ovviamente quindi secondo me c'è un problema diciamo di riuscire a inquadrare la cosa dentro un contesto pedologico perché ovviamente la soglia argilla soc non può funzionare alla stessa maniera in tutti i suoni d'Europa ma anche l'erosione lo vale alla fine l'erosione nei nostri ambienti collinari del sud d'Europa è accettabile anche un po' più alta magari se vai nelle pianure del nord d'Europa magari tu hai tonnellata ettaro ci sta quindi è tutto collegato alla variabilità io ti chiedo ma questo problema che le soglie devono essere suolo specifici qualcuno l'ha sollevato? allora ti rispondo subito sì è stato sollevato da molti è stato sollevato anche dall'Italia ci sono due considerazioni su questo la prima è diciamo la finalità generale del monitoraggio che è quella di consentire alla commissione di avere un'idea delle condizioni del suolo nei diversi paesi e quindi le principali criticità nelle diverse aree e per fare questo ovviamente ci deve essere una qualche forma di comparabilità tra le valutazioni sulla necessità di adeguare le soglie quindi ci sono due aspetti differenti uno soglie diverse per distretti o per aree omogenee all'interno dei distretti è stata proposta richiesta da molti su alcuni parametri peraltro c'è in particolare quello del carbonio c'è già previsto nell'allegato 1 se vedete la possibilità chiaramente sulla base di una motivazione esplicita da parte dello Stato membro di considerare parametri differenti o adattare comunque adattare il criterio alle condizioni nazionali quindi questo significa che ci dovremo rimboccare le maniche noi perché in qualche modo dovremo riammagliare gli aspetti diciamo pedologici con quelli di una rappresentatività statistica che la commissione richiede senza questo senza possibilità di non applicarlo ecco quindi sulla modalità di selezione dei punti per esempio è stata da parte è stato chiesto di spiegare meglio in che modo soprattutto da parte di chi dei paesi che diciamo in qualche modo non hanno utilizzato o non si sono confrontati con Lucas di capire in che modo il sistema di identificazione dei punti Lucas può adattarsi al loro paese diciamo per l'Italia anche grazie al lavoro di GP Soil questo lavoro è già stato iniziato per alcune regioni dovrà essere fatto per tutte ne dovremo discutere nei prossimi mesi però è già un buon inizio su che diciamo su che forma debbano avere questi distretti la discussione è ancora molto ampia vi dico solo che diciamo le ulteriori specifiche che la commissione ha dato nelle sue spiegazioni sono che per esempio non necessariamente ad ogni distretto corrisponde un'autorità quindi potrebbe essere che un'autorità abbia più distretti ed è certo che all'interno di un distretto si immagina di avere diverse aree omogenee che diciamo immagino saranno poi collegate alla significatività della selezione dei punti di monitoraggio quindi all'interno di questi due binari dovremo cercare di definire la soluzione migliore e anche meno dispendiosa per il nostro paese grazie Francesca direi proprio di sì nel frattempo Paola Tarocco che peraltro saluto che tanto che non vedo e sono contento di vedere almeno la sua presenza qua ci dice che anche il correttivo sui prati permanenti non è realistico nel caso dell'indicatore carbonio organico che ci vuole un indicatore più articolato di un semplice rapporto poi Paola se vuoi anche intervenire e dire qualcosa ovviamente sei benvenuta ecco ho fatto solo il lettore si puoi parlare io parlo ciao io puoi parlare io parlo allora noi stiamo preparando nell'ambito della regione un rapporto tecnico sulla proposta di direttiva per la valutazione di fase ascendente da parte della conferenza stato-regioni sono stata un po' spiazzata dai tempi che ho visto perché di fatto noi avevamo una riunione commissione consigliare il 13 dicembre quindi mi salutiamo esatto perché ci vuole una valutazione di tipo politico su questa cosa qui però se voi ritenete noi siamo in grado anche di mandare la relazione tecnica a Ispra in forma diciamo così non ufficiale ma ufficiosa per il discorso del carbonio noi abbiamo fatto una valutazione a livello regionale noi questo indice ci frega alla grande perché a differenza del Piemonte che beati loro sono pieni di carbonio non è così nel nostro caso ehi il viniera il viniera cioè proprio non esiste il mondo cioè noi siamo 80% soli non in salute cioè ci salvano le valli del Mezzano dove ci sono i suoi torbosi e l'alto appennino sotto i mirtilli ecco per intenderci quindi noi avevamo fatto una proposta nell'ambito di questa relazione di un indice un pochino più complicato un pochino più complesso in particolare abbiamo preso l'indice che noi utilizziamo per valutare nell'ambito del PSR quali contributi dare per l'aumento della sostanza organica che è un indice che prende in considerazione le classi tessiturali quindi sempre l'argilla in senso lato ma è un pochino più complesso e tra parentesi anche a livello nazionale ho visto che è stato ripreso in modo leggermente diverso ma è molto simile questo volevo dirlo perché non siamo tutti come la regione Piemonte io penso che le regioni del sud Italia sono messe ancora peggio di noi quindi quello di ragionare per rispetto di averlo detto hai nominato la conferenza delle regioni questa proposta voi l'avete già condivisa con gli altri già o no? condivisa con chi? con altre regioni? no no perché era un processo interno alla nostra regione cioè noi ci siamo stati chiediti di fare una valutazione non l'abbiamo fatta facevamo questo percorso però quando ho visto i tempi ne ho parlato anche ieri come una fo ho detto oddio qui si schiavano ad arrivare tardi fuori allora io preferisco mandare le note poi abbiamo fatto valutazione anche su siti contaminati cioè su tutta una serie di fattori al di là dei quattro indicatori insomma perché io non stiamo aspettando il monitor nel senso che noi abbiamo i dati per dire già quali sono i grado di salute dei nostri suoli indipendentemente del monitoraggio che si farà quando io sono già in pensione a questo punto perché se si continua così ecco quello volevo dire tutto lì però di quei quattro indici a parte il quarto sulla compatizione che fa ridere cioè è veramente un indice ridicolo non so chi l'abbia pensato ma è un indice ridicolo i primi tre sono abbastanza preoccupanti anche per il discorso dell'erosione è vero la rusle con cui diceva Ialina ieri sul tavolo del consumo di suolo ma che non c'è alternativa alla rusle ma anche nell'ambito della rusle i vari fattori vanno stimati nello stesso modo perché mi trovo adesso a delle differenze consistenti con la regione Marche e la regione Toscana sulla valutazione dell'erosione sul fattore lessico in particolare poi tra parentesi a livello di iride non so se voi l'avete visto oggi qualcuno nella conferenza stamattina hanno proposto un servizio sull'erosione che poveri noi ecco parliamone perché se quello diventa il servizio ufficiale dello Stato italiano siamo messi malissimo quindi torniamo sull'erosione diciamo è già stato diciamo abbiamo fatto un intervento anche argomentato diciamo così quindi la necessità di avere questi commenti sui diversi indicatori il più presto possibile è perché diciamo la commissione in questo momento ci ha fatto capire chiaramente che è disponibile a modificare cose ma sulla base di evidenze quindi ha bisogno del giusti del della referenza scientifica o del di un riferimento specifico a un sistema esistente o a delle condizioni specifiche di un territorio naturalmente ecco sul carbonio organico mi chiedo e ti chiedo se questa frase diciamo del fattore correttivo per particolari tipologie di suolo è sufficiente a poter probabilmente più del fattore correttivo adottare altri parametri altri parametri il fattore correttivo noi l'abbiamo calcolato nel caso dei nostri suoli vabbè a parte che è diverso ovviamente fa pianura colline e montagna la media regionale del 2,32% come carbonio organico allora noi anche con tutti gli sforzi possibili di gestione conservativa e biribim bambam in certe zone non ci si arriva cioè non ci si arriva perché per esempio noi abbiamo dei problemi grossissimi di scarente di carbonio organico in collina che noi abbiamo vigneti frutteti coltivati spesso in condizioni di non inervimento in situazione di erosione molto elevata allora stanno cercando di cambiare a rotta il problema qual è? l'inervimento non tiene ci hanno provato in tutti i modi ma perché abbiamo un clima lo mettono in primavera d'estate secca tutto quindi cioè capito cioè uno può provare a fare la gestione sostenibile quello che gli pare ma c'ha anche delle situazioni in cui per condizioni climatiche non ci si arriva a quei valori lì non ci si arriva cioè io il prato permanente in quei valori lì ci arrivo cioè c'è un prato permanente che ha 50 anni capito? questo è il fatto no ecco diciamo che gli aspetti climatici sicuramente dovranno essere un po' stressati un po' di più nell'ambito delle eccezioni e questo riguarda non soltanto noi ma tutti i paesi mediterranei ritengo dovranno mettere eccezione quindi inserire qui nella terza colonna nella quarta diciamo dell'esonero dal criterio le condizioni climatiche particolari perché chiaramente comunque ecco ripeto se ci mandate queste osservazioni benvenute una volta che le avete poi anche diciamo formalmente politicamente approvate trasmettetele anche formalmente al tavolo suolo dell'osservatorio economia circolare perché quello è un po' il contenitore attraverso il quale formalmente stiamo raccogliendo tutte le le osservazioni quindi diciamo facciamo un doppio lavoro comunque io le mando in camuffa diciamo così perfetto no no benissimo se no non si fa non si fa a tempo quindi sono le benvenute ecco va bene grazie grazie mille Paola grazie mille Francesca l'ultima l'ultima sollecitazione e poi cominciamo sennò poi volevo giusto commentare su questa questione del carbone organo sia con Paola che con Francesca perché poi c'è anche nella mia presentazione ma secondo me è proprio anche il tipo di approccio non la soglia perché giustamente come cerchebano delle modellistiche che utilizzano la modellistica per stimare il contenuto del carbone potenzialmente raggiungibile e quindi probabilmente il sistema più scientificamente corretto sarebbe valutare il contenuto in rapporto al potenziale ecco esatto bene e non siamo tutti uguali sì sì questo è una buona proposta bene ti ringrazio ancora Francesca grazie mille nella disponibilità del dibattito anche che siamo riusciti ad aprire e direi che adesso a questo punto in perfetto orario possiamo riprendere con gli interventi con l'introduzione al progetto Soilab invito Roberta Marina che ci sta raggiungendo ricercatrice del CREA responsabile anche del CREA però del CREA è lo specifico prego la parola sì qualcuno scherza su questo allora intanto come prima cosa voglio ringraziare Ipla particolarmente Fabio Petrella che ci ha aiutato nell'organizzazione anzi che ha organizzato questo incontro che diciamo rappresenta uno degli incontri dell'auspicabile Giro d'Italia dei suoi lab noi vorremmo avere degli incontri in tutte le regioni italiane come appunto un simbolico giro d'Italia e ci fa piacere diciamo abbiamo cominciato con la regione Lombardia ora siamo in Piemonte e siamo contenti tra l'altro Fabio ha anche sopportato versioni dell'agenda che continuamente venivano cambiate perché eravamo uno allevante e l'altro componente e gli davamo tante informazioni incontrattate con pazienza esatto quindi il suoi lab è un progetto che è stato finanziato dal Ministero dell'Agricoltura già dal 2019 e questo progetto potete leggere insomma il titolo era stato creato essenzialmente per supportare la ricerca la partecipazione dell'Italia alla Global Soul Partnership e ad a rete di eccellenza creata dall'EGP Soul che ormai tutti avete sentito nominare che è il grande programma contenitore relativo al suolo finanziato dalla Commissione Europea quindi inizialmente questo progetto è stato diciamo studiato è stato scritto come se fosse una versione italiana del progetto EGP Soul quindi in ciascuna work package del progetto sui lab si fa riferimento a un diciamo work package un corrispettivo work package nel progetto EGP Soul tuttavia da quando abbiamo e questa è l'articolazione del progetto potete vedere e leggere i vari work package leader che appartengono come potete vedere a molte istituzioni di ricerca tra sicuramente le più importanti in Italia a cui si è aggiunta recentemente anche abbiamo cominciato a lavorare insieme e ci siamo resi conto che c'è la necessità diciamo di mettere insieme delle unità che si occupano di suolo tra le più diversificate quindi per non citare il livello internazionale ma citare solo quello italiano scusate se non ho aggiornato ogni cosa dovrebbe essere rifatta da zero però leggiamo il ministero dell'agricoltura il ministero dell'ambiente il ministero dell'università con i loro rispettivi enti strumentali di ricerca strumentali o di ricerca questi sono rimasti per fortuna abbiamo anche l'Enea che diciamo dipende dal ministero dell'industria e i servizi dei suoli regionali ma chi altro si occupa di suolo diciamo abbiamo qua la parte scientifica abbiamo le regioni abbiamo i comuni abbiamo le professionisti abbiamo gli agricoltori abbiamo quindi una conoscenza tecnico-scientifica operativa ed esperienziale politica amministrativa culturale quindi ci muoviamo veramente in un contesto enorme in un contesto larghissimo dove per il quale non esistono punti di riferimento certi nessuno sa chi si deve qua tra l'altro ho dimenticato le autorità di vaccino le fondazioni le società scientifiche ne potrei mettere centomila diciamo e quindi abbiamo pensato che Soilab come dice lo stesso nome poteva rappresentare anche un punto di incontro di tante esperienze diverse e di tante competenze diverse per questo motivo ah ecco le avevo messe le fondazioni noi abbiamo osservato che ci sono tutta una serie di implicazioni per questa frammentarietà di questo mondo mancanza di comunicazione tra gli attori gli attori non si parlano tra loro anche guardate questo lo devo dire anche all'interno del frea stesso non riusciamo a sapere cosa fa la mano destra rispetto alla sinistra perché è difficile comunicare per non parlare poi di quelli che sono gli altri enti di ricerca le competenze sul suolo sono frammentate vanno veramente dal comune fino allo stato nazionale e all'unione europea che poi legifera anche in materia di interesse del suolo tra cui l'ultima direttiva sul suolo la difficoltà nella pianificazione a livello nazionale di strategie di gestione e difesa del suolo la mancanza di una rete nazionale dei suoli questo lo sappiamo le regioni hanno fatto la loro rete ma hanno fatto le loro carte pedologiche hanno fatto però manca una rete nazionale gli interventi sul suolo sono spesso emergenziali questo lo sappiamo è una cosa le metodologie per il campionamento e le analisi dei suoli sono diverse da regione a regione e mancano delle politiche nazionali e internazionali per la creazione dei databesi e la gestione dei dati quindi noi pensiamo che l'attività di Soilab possa diciamo andare a coprire alcuni aspetti di tutte queste indicazioni che sono quelli che vi ho evidenziato in verde come possiamo fare questo allora fatemi fare una premessa il progetto Soilab è un progetto che ha avuto un finanziamento di 350 euro da Guamprea che lo ha distribuito a tutte le indicate attive di progetto quindi voi potete immaginare che un progetto di 350 mila euro in tre anni che poi sono diventati cinque non è un progetto ricco e quindi noi non è che possiamo pensare di fare chissà che cosa però abbiamo pensato che magari ci possiamo conoscere meglio tutti quanti organizzando degli eventi degli eventi nazionali in cui c'è la possibilità di confrontarsi su alcuni temi come faremo oggi e domani insomma e come abbiamo fatto l'anno scorso dove abbiamo organizzato un evento nazionale al Ministero dell'Agricoltura che è stato realizzato politicamente con il coordinatore nazionale Rosario Napoli e abbiamo quindi siamo quindi abbiamo cercato insomma di iniziare a sollevare alcune delle tematiche che verranno trattate anche oggi ma che certamente non hanno avuto ancora una fine e una una conclusione diciamo nel abbiamo fatto un l'ISPRA ha organizzato la guerra dei suoi scusate però sono andata troppo avanti secondo me si faccio da qua faccio da qua no 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 volevo andare indietro indietro ok va bene allora niente quindi il prossimo evento congiunto con i JPSO e le Soilab si farà nei primi mesi del 2024 entro aprile forse il 12 aprile ve lo faremo sapere perché questo sarà un grande evento visto che vede insieme i due progetti e vi terremo informati su come riusciremo a organizzarla c'è stata poi l'iniziativa organizzata da ISPRA prevalentemente a cui crea diciamo collaborato marginalmente ma insomma è stato un evento molto ben organizzato e in cui ci sono state appunto molti attori interessati abbiamo come vi ho detto stiamo cercando di organizzare questo giro d'Italia del suolo con le regioni quindi i primi a proporsi sono stati la regione Lombardia e il prossimo evento è questo cioè presso la regione Piemonte e Ipla che riguarderà prevalentemente il monitoraggio della biodiversità e i metodi di stima del carbone organico del suolo più tante altre tematiche queste diciamo sono quelle del titolo abbiamo organizzato sempre come sui lab un primo corso sull'uso del modello Rossi per la stima del turnover del carbonio nel suolo e l'abbiamo tenuto a Roma in inglese perché c'è stato richiesto diciamo da dei colleghi stranieri ma nel caso ci fosse qualcuno interessato lo potremmo ripetere anche se riteniamo che questi debbano essere questi corsi debbano essere svolti in presenza perché richiedono diciamo l'uso dei computer e bisogna coordinarsi per lavorare insieme con il programma ma non è detto che se per esempio qua in regione Piemonte ci sono dieci persone interessate non veniamo noi per due giorni e lo facciamo noi per voi abbiamo poi una strategia diciamo che è a lungo termine perché mi sembra che al momento si vede notevole di ciascuno di noi che è quello della valorizzazione della bancata di georeferenziata del CREA con la creazione di libraries e webgis se volete maggiori informazioni chiedetele a Maria perché io non sono competente in materia però l'idea è quello appunto poi di fornire agli utilizzatori delle librerie e webgis interrogabile direttamente dal nostro sito internet e a questo proposito lascio la parola a Silvia Vanino che invece vi illustrerà la nostra creatura giovane ma già molto utilizzata che è il sito internet di Suilab ok grazie buonasera a tutti sono Silvia Vanino e avevamo pensato di cos'è il sito Suilab è la vetrina di presentazioni di tutte le conoscenze che riguardano del suolo a livello italiano e quindi abbiamo voluto creare questo sito sia per presentare il progetto sia per iniziare a presentare tutte le conoscenze che riguardano il suolo quindi abbiamo diversi diverse cartelle come ad esempio cos'è il suolo dove vengono presentate in modo molto divulgativo per le scuole o per gli interessati tutte le caratteristiche del suolo e le conoscenze che riguardano il suolo e poi abbiamo inserito ad esempio altre informazioni come ad esempio la pagina che riguarda gli attori del suolo in questa pagina abbiamo messo tutte le associazioni gli enti regionali gli enti di ricerca all'università quelli che noi conoscevamo e con cui eravamo già in contatto e chiunque voglia essere compreso in questa lista di attori che si occupano di suolo ci possono mandare una mail il loro indirizzo web se hanno un sito perché l'idea che noi abbiamo è di non replicare niente ma di dare delle informazioni quindi se ad esempio come in questo caso l'IPLA ha un sito e con tutte le informazioni che riguardano il suolo della regione noi facciamo collegamento in modo che i fruttori del nostro sito possano essere reindirizzati ai siti di competenza perché l'idea è appunto di non duplicare e di tenere aggiornato il sito e questo lo possiamo fare soltanto creando dei collegamenti come le banche dati o altri siti un'altra pagina importante riguarda la conoscenza sul suolo in queste pagine che poi potete entrare e andare a vedere l'idea è che sia un grande contenitore dei progetti delle pubblicazioni delle banche dati che riguardano tutti i suoli in questo caso per quanto riguarda ad esempio il settore dei database è ancora vuoto perché ci stiamo lavorando stiamo intanto cercando appunto di crearci una pagina con tutti i cataloghi del CREA sia in modalità di catalogo sia in modalità di libreria sia in modalità di webgis con la possibilità di scaricare e di interrogare i dati e se altri enti volessero o hanno già preparato nei loro siti delle banche dati che sono disponibili a mettere in condivisione con altre persone con gli interessati ci possono benissimo dare la ci possiamo mettere d'accordo in modo che sia questa è una pagina che faccia la pubblicità e da ritorno anche agli altri siti e alle altre informazioni la stessa cosa viene fatta per i progetti per le pubblicazioni poi anche dei video di pubblicativi in modo che chi cerca suolo in Italia questo possa essere un primo punto di partenza per andare a vedere le conoscenze appunto del suolo perché ci siamo accorti che non c'era quando uno scriveva che non c'era un sito che raccogliesse tutte le informazioni o maggior numero c'era però era stato di uso e quindi secondo noi è un punto di partenza per anche diverse altre attività la stessa cosa anche per gli eventi noi in questo punto a questo momento mettiamo pubblicizziamo gli eventi che vengono organizzati da Soilab dai GP Soilab ma qualora avesse interesse a pubblicizzare anche altri eventi benvenga ce lo fate sapere e noi lo ricarichiamo stessa cosa ad esempio vorremmo caricare tutte le presentazioni dei esempi di questo evento in modo che chi volesse può scaricarsi e rivedersi e quindi vi invito a vedere il nostro sito e a rendervelo anche vostro e siamo aperti anche a diversi suggerimenti o commenti critiche che vogliate fare voglio aggiungere no 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 vi ringrazio vi ringraziamo grazie mille grazie mille a voi della presentazione abbiamo qualche minuto se vogliamo vedere qualche precisazione qualche approfondimento titolo penso che mi manderà la richiesta così per essere no quello che volevo dire è che effettivamente l'avere creato questo sito ha portato tante persone parlo veramente di istituzioni anche di primaria importanza per farvi un esempio l'università di bologna l'università di bolzano l'università di perugia che non erano incluse i suoi lab di chiederci di diventare nostri attori e portatori di interesse a che cosa ci serve questa lista di portatori di interesse ci serve perché noi il fatto che comunichiamo con i genitori comunichiamo quindi con la commissione europea nel momento in cui abbiamo bisogno di avere diciamo dei pareri dei riferimenti sappiamo che esiste una chiamiamola una rete di esperti di scuola italiana a cui noi possiamo quindi rigirare le richieste di intervistoria della commissione e voi potete rispondere spesso siete interpellati direttamente ma per esempio ci sarà un grande nel grande evento noi dovremo fare il monitoraggio per la roadmap delle esigenze di ricerca per i prossimi dieci anni è chiaro che noi vorremmo allargare quanto più possibile la platea di coloro che risponderanno a questa richiesta della commissione europea non vogliamo essere noi che lavoriamo in Egizio e basta vogliamo che tutta la comunità del suolo italiano partecipi a queste cose quindi non è una cosa non importante non posso dire è una cosa importante far parte della rete grazie per le precisazioni se anche da casa o dagli uffici da casa o dagli uffici ha delle domande dei dubbi altrimenti proseguiamo con il nostro programma con un minutino anzi un secondo di tempo vediamo se qualcuno reagisce ma guarda se posso velocissimamente l'intervento che ha fatto prima Roberta mi ha fatto pensare che sia utile rimarcare una cosa l'evento che abbiamo organizzato a settembre è stato co-organizzato con il CREA e questo è diciamo ha comportato un lavoro notevole nei mesi precedenti di confronto affinamento allineamento bilanciamento che però adesso non lo sto dicendo perché abbiamo fatto tanta fatica va riconosciuta no non per questo ma perché grazie a questo sforzo congiunto che abbiamo fatto insieme siamo riusciti in una cosa che normalmente non accade e cioè a portare due ministeri al confronto tecnico nella diciamo allo stesso tavolo vero che Blasi era collegato da remoto ma diciamo per motivi non legati alla sua volontà sappiamo quindi questo lo voglio rimarcare perché è uno degli aspetti positivi molto positivi che è tutto questo lavoro di rammagliatura che stiamo facendo con lo sforzo di tutti di Roberta anche di Maria di Rosario è utile perché poi come vedete la velocità delle proposte delle reazioni è tale per cui se già siamo con un dialogo aperto riusciamo a trovare una maniera per tenere dentro le cose se dobbiamo ogni volta ripartire dalle calende greche e dire no se invito quello non viene quell'altro questa tavola allora non è mio quindi non finiamo più e quindi volevo sottolineare l'importanza di questa cosa e che questi due progetti GbSoil e Soilab ci stanno aiutando in questa e che dovremmo continuare in questa direzione a mio avviso grazie grazie a te Francesca a suo punto andiamo avanti abbiamo Rosario Napoli che è già qui pronto alle mie spalle ricercatore del CREA che ci parla della roadmap per l'aggiornamento della base dati nazionale dei suoli e a proposito di banche dati a proposito di disponibilità dei dati ai vari livelli istituzionali ma ma no il discorso ora lo introduco vai a te a te la parola Rosario allora buonasera a tutti io tra l'altro sono un po' diciamo mi sento un po' il saggio mappa a questo punto del tuo gruppo perché mi viene in mente un piccolo appello quando cioè l'alba dell'uomo il Cretaceo io venivo qui nelle discussioni con Ipla con Salantin se era ancora in un'era passata e le discussioni paradossalmente che si facevano vent'anni dopo sono sempre le stesse cioè capito quindi le discussioni no le discussioni tecniche attenzione il livello tecnico molto alzato perché gli strumenti tecnologici sono ci sono molte le vane ma le discussioni tra noi cioè il fatto che ci sia che la pedologia italiana sia stata sempre fatta da non tantissimi pedologia italiana sto dicendo la ricerca gli enti regionali ma non tantissimi e litigiosissimi da decine e decine di anni tra di loro e questo introduce un po' la mia presentazione perché secondo me a questo punto è arrivato il momento anche per motivi per molti di noi amagrafici perché ormai l'orizzonte diciamo è vicino i servizi regionali sono quelli che sono dove ci sono perché vi ricordo che la maggior parte delle regioni non ha servizi regionali del suolo attivi perché sono stati chiusi nel frattempo negli anni quindi i servizi regionali sono al centro nord diciamo quelli attivi attualmente e come diceva la famosa battuta e anche quelli attivi si sentono un po' povere ultimamente cioè proprio perché l'età media diciamo degli attori è diciamo abbastanza avanzata ora noi abbiamo questa occasione io non parlo del futuro perché poi il mio direttore ha fatto riferimento a attività future ma io a questo punto dopo la mia esperienza passata dal progetto Moncapoli che era una sorta di Soylab degli origini poi c'è stato il progetto Sina poi c'è stato il 250.000 il progetto 250.000 dal 1998 è durato fino alla regione Lazio nel 2016 quindi è durato vent'anni e diciamo c'è sempre stata un'evoluzione per cui io diffido delle iniziative future stiamo con i piedi per terra esistono due attività io vi volevo parlare appunto nello specifico di parte quello che ha detto Roberta cioè entrare nel dettaglio di alcune cose che ha introdotto su Soylab abbiamo Soylab e in particolare l'attività del WP6 database con divisione dati pedologici che in parte riprende a livello italiano quello che è l'attività che si sta facendo nel WP6 del GepiSoy cioè GepiSoy lo fa per tutti gli attori europei compreso noi gli italiani cioè l'armonizzazione delle informazioni europee lo sharing a tutti i livelli sia informazioni semantiche che geografiche quindi a livello europeo ma dentro l'Italia c'è anche il problema nostro cioè il problema che noi stessi bisogna mettere a sistema a questo punto perché un'occasione è appunto la nuova PAC e ora vi spiego perché perché la nuova PAC ha dei risvolti interessanti rispetto alle misure che sono state organizzate ma interessanti anche come il ministero ASAF che ha messo il nome di un'analità alimentare vuole gestire perché riduce dalle esperienze di monitoraggio degli anni delle prime PAC a un certo punto con i progetti sugli indicatori la verificata dell'efficacia e tutto è venuto fuori e poi alla fine era una matassa ingasmugliata che funzionava un po' come la sanità cioè che ogni c'era 20 regioni e c'avevano 20 sistemi di controllo e monitoraggio un po' diversi con criteri diversi e poi a valle tutto doveva confluire in un'unica valutazione nazionale che era complicato complicato da gestire complicato da da diciamo da utilizzare per dare la risposta a livello europeo quindi c'è questo quadro di riferimento e il nuovo piano strategico nazionale approvato per la PAC può essere la chiave di volta finalmente per spingere all'interno di queste due attività per spingerci tutti a fare delle considerazioni e a mettersi un po' a sistema mettersi un po' al sistema e cercare di costruire un qualcosa di condiviso da un punto di vista di strumenti operativi strumenti operativi che stanno a supporto della PAC quindi come diceva la necessità di costruire una rete pedologica nazionale che non sia solo rincontrarsi fare rete discutere di certi temi bellissimo ma quindi non una rete solo sociale o culturale ma un qualcosa di operativo nel vero senso della parola cosa significa una rete funzionale a che cosa a rispondere alle richieste sulla gestione delle misure della nuova PAC in particolare appunto agli ACA e alle BCA che stanno sotto le buone condizioni agroambientali e al monitoraggio sulla loro efficacia poi c'è l'obiettivo europeo quindi fornire all'Europa come stato membro una banca d'arte finalmente unicola armonizzata armonizzata quindi anche con gli altri paesi europei perché il Giovisore sta facendo questo lavoro a livello di tutti i paesi europei quindi noi abbiamo la fortuna che il capofila del WP6 siamo noi per la Punta e Maria quindi le indicazioni sono modellate esattamente su quelle che sono le esigenze italiane in qualche modo quindi costringiamo e vi dirò di più questo ve lo può dire Maria che nel panorama europeo noi siamo paradossalmente quelli tra i più avanti di tutti sia nella informazione in possesso sia nella cartografia sia negli strumenti per fare cartografia cioè siamo più avanti di tantissimi altri quindi ecco c'è questa idea che noi siamo sempre gli utili no in questo caso noi siamo molto avanti e poi c'è l'obiettivo mondiale vabbè più politico comunque di utilizzare anche informazioni di sintesi che sembra lontano però effettivamente anche avere un rapporto con la FAO in certi organismi in certi contesti di gestione internazionali anche se poi in realtà da un punto di vista legislativo quello che noi siamo incardinati dentro il contesto europeo quindi e questa è la dimostrazione è per esempio la griglia SPY di riferimento è il contesto europeo legge poi a livello mondiale fanno la rete global soil map che però siccome è diversa da SPY noi non ci aderiamo perché ci abbiamo la legislazione europea che ci impone di SPY quindi l'oggetto di rappresentazione è però il primo punto l'obiettivo nazionale l'obiettivo nazionale è chiaramente uno step fondamentale per fare gli altri due che non si realizza l'obiettivo nazionale non si possono andare in Europa o a livello mondiale o comunque si faranno sempre delle cose un po' diciamo non dico pasticciate ma sempre dei by day si piglia l'aggiornamento che c'è qui nella regione manca i dati vabbè si mandano uguale e quindi si fa delle cose sempre un po' arrangiate anche perché non avendo che si tiene in contatto magari uno non sa che nella zona X nella regione Y non sono stati fatti degli aggiornamenti del frattempo degli aggiornamenti informativi di tecnografie quindi è anche un sistema alla rete per tenersi aggiornati nel vero senso della parola qui si tratta quindi noi avremo io con altri colleghi abbiamo deciso di lanciare all'interno del soli lab una iniziativa che ha come secondo me come obiettivo quello di poi vedremo strumenti non sono tecnici ma anche strumenti istituzionali di creare una rete operativa per raggiungimento di certi obiettivi specifici senza andare a fare di tutti i mega obiettivi del mondo dentro la PAC per chiedere certe richieste della PAC e anche ai monitoraggi che la PAC dovrà fare e questo questa ambizione questo obiettivo dovrebbe andare oltre cioè dovrebbe creare una situazione di rapporti istituzionali permanente che va oltre Gefi Soil che va oltre Soilab anche perché questi progetti finiranno e quindi un assetto che prescinde dai progetti che via via passano cioè un assetto diciamo semi permanente e per fare questo chiaramente ci vuole anche una struttura istituzionale di rapporti istituzionalizzati tra gli enti che concorrono quindi le fasi operative da un punto di vista tecnico sono la definizione di metodologie scala criteri requisiti appunto ruoli operativi impegni e istituzionali poi i test di messa a punto in alcune regioni definite come area pilota ora vedremo cosa significa poi tecnicamente questo fatto di aggiornare diciamo la struttura Ispire Compliant noi stiamo già al lavoro stiamo già al lavoro un gruppo di volenterosi in Toscana con il CNR Gardin-Lamma in Sicilia noi del CREA un gruppo del CREA già ci siamo messi al lavoro per vedere di testare una serie di metodi che con la ricerca abbiamo già a pezzi già in qualche modo sperimentato l'abbiamo sperimentato nell'Azio l'abbiamo sperimentato in altri lavori e quindi stiamo mettendo a sistema anche dal punto di vista di ricerca tutta una serie di metodologie per arrivare a fare una revisione della banca dati nazionale quindi poi l'implementazione una realizzazione vera e propria con il coinvolgimento operativo diretto di tutti i servizi regionali chiaramente non ci sono perché come vi dicevo in alcune regioni purtroppo non ci sono e lì chiaramente il CREA al momento fa diciamo in qualche modo sostituisce i servizi marcanti la tempistica potrebbe essere per la fase 1 e 2 abbastanza rapida per la fase 3 di realizzazione cioè l'aggiornamento l'update della banca dati con nuove tecniche e anche revisione e soprattutto anche l'armonizzazione perché questo è un problema che ci portiamo dietro non ci dimentichiamo ci portiamo dietro dal progetto 250.000 il progetto 250.000 ha raccolto tutta una serie di informazioni poi alcune regioni sono andate avanti ma l'informazione tecnologica non è mai stata armonizzata in fine regionale e questo è un problema che ci conduce anche a quello che diceva Paola anche cioè al fatto che poi ognuno finito quando c'è fuori dalla rete del suo giardino dice ma c'è lo stesso suolo ma chi se ne importa io c'è un giardino è questo giustamente il pero che c'ho guarda il suolo e c'è un giardino poi quello del vicino però magari c'è il comune che c'è da gestire tutti i giardini e dice sì ma io saprei i suoni che ci sono e quello mi dice c'è un suolo l'altro c'è un suolo l'altro c'è un suolo l'altro c'è un suolo paperino io non ci aprisco niente e entro nel pallone quindi c'è un'esigenza di armonizzare perché quando facciamo le richieste PAC vengono fatte a livello su tutti i seminativi nazionali quindi ci sono chiaramente dei principi guida e delle visioni già in parte diciamo che è successo si spegge con un avvenimento ci sono delle visioni e dei principi guida che sono già state ribadite rispetto al proporsi anche come strutture di riferimento chiaramente il CREA per la sua storia dal progetto 250.000 è in qualche modo la struttura di riferimento per il fatto che ha supporto al ministero e quindi tutta una serie di ministeri dell'agricoltura siccome il suolo per il 99% è gestito dagli agricoltori forestali quindi non è gestito dagli urbanisti per fortuna e quindi chiaramente noi siamo in riferimento quindi il CREA ente di riferimento nazionale quindi fornitore di elaborazioni al MASAF dopo chiaramente l'indispensabile verifica da parte dei servizi del suolo regionali sempre dove ci sono io questo lo dico sempre in modo che ci si ricordi poi la condivisione totale tra CREA servizi del suolo regionali senza alcuna restrizione o limitazione di tutti i dati inseriti nelle banche dati e metodi ora questo è un discorso so che solleva alcune criticità ma poi vi spiegherò cosa significa poi in dettaglio questa cosa perché diciamo mettere in condivisione non significa necessariamente mandare il dischetto con i dati ecco tanto per intendersi anzi che poi uno dice c'è sempre stata la ritrosia da parte di alcune regioni dice no questo è mia poi però anche noi nella ricerca facciamo attività anche noi nella ricerca abbiamo un sacco di dati sperimentali di tante in tante regioni d'Italia facciamo applichiamo modellistica cioè anche noi abbiamo un sacco di informazione nuova presa dai campi sperimentali di medio lungo termine o d'altre cose in tutte le zone d'Italia e continuiamo a fare progetti quindi dentro questa banca confluisce anche tutta l'informazione scientifica anche poi ci sono degli accordi e impegni formalizzati ovviamente questo è fondamentale non è sulla parola non è possibile fare questo tipo di attività e poi c'è anche la fornitura da parte di terzi rispetto a CREA ISPRSR di servizi del suolo regionali questo perché come diceva Roberta alcune volte succede che ci sono anche altri enti che producono dati o che hanno informazioni e fanno studi di questo tipo quindi i protocolli di scambio sono e l'accesso ai dati è da definire dettagliatamente quali sono gli utilizzatori chi sono i tecnici di riferimento chi sono i responsabili quali sono gli scopi chiaramente noi essendo un ente di ricerca la nostra relazione con l'esterno questo non è mai stato detto chiaramente la nostra relazione con l'esterno tranne che fare le valutazioni per il MASAF che sono interne sono report interni la nostra relazione con l'esterno sono le pubblicazioni scientifiche ovviamente quella è la nostra quindi noi anche nelle pubblicazioni scientifiche nostre noi non è che divulghiamo i dati direzzi divulghiamo l'elaborazione del dato chiaramente e quindi anche in questo caso quando uno mette a regime l'informazione tutta disponibile in Italia poi rende disponibile all'esterno l'elaborazione di questo dato non il dato che ci sta dietro quindi da questo punto di vista tutta una serie di problematiche sulla ownership secondo me si possono tranquillamente superare o entriamo nel vivo il piano strategico nazionale stavolta come vi dicevo io me lo sono letto e fatto spiegare dai colleghi di CREATB politica e biologia dettagliatamente in particolare Alessandro Monteleone che nell'anno scorso fece la presentazione e poi me le so fatta rispiegare perché quella presentazione ci ho capito poco però col documento alla mano di 4500 pagine della nuova PAC mi si è fatto spiegare le cosette dunque intanto cosa dice la PAC è fatta di due pilastri sono i fondi Feoga cose diretti contributi diretti e fondi Feast ok questa roba qui perché noi stiamo in un mondo in cui si parla dice il progetto Gepiso e questo dell'altro perché la salute del suolo però monitoraggio soldi non si sa nessuno parla mai dei finanziamenti e ci sono dietro le cose perché poi per fare le cose è tuttoro questa PAC qui mette a terra come fondi Monteleone 35 miliardi per l'Italia per l'Italia 35 miliardi come fondi Feoga diretti e 27 28 come Feast ecco quindi dietro le misure Feast ci sono 27 28 miliardi di euro per l'Italia contributi agli agricoltori se rispettano queste misure chiaramente dentro questa cifra c'è anche le azioni di controllo da parte del ministero del monitoraggio dell'efficacia delle misure oh stavolta il ministero ecco no questo scusate volevo tornare indietro come si fa ecco importante cosa dice primo punto un unico piano strategico nazionale della PAC gestito centralmente quindi stavolta sarà il ministero che gestisce nasa che gestisce sia l'organizzazione delle misure sia i piani di monitoraggio anche i piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia delle misure saranno gestiti centralmente che significa le faranno sempre le ditte esterne però non saranno gestiti micolarmente dalle regioni questo è un punto fondamentale io non voglio entrare in un giudizio se questo è positivo o negativo è stato fatto per il motivo che si diceva cioè per il fatto che c'era poi una disuniformità disuniformità metodologica e di giudizio quindi anche gli scenari come vedete saranno scenari dove diciamo la partecipazione regionale ci può essere sicuramente ma avrà su base volontaria in alcuni casi studio avrà un peso diciamo minore molto minore rispetto a quella precedente quindi capite bene che in questo quadro la necessità di fare rete e dare nello strumento ministero banca date nazionale avere tutta l'informazione più possibile presente è fondamentale perché chiaramente quando si va a pianificare le scelte i suoli torbosi dove sono quali sono i suoli del carbone organico quali senza quali le misure dove vanno concentrate di qui in di là chiaramente l'informazione deve essere buona non può essere diciamo un'informazione parziale o mancante ecco tornando al punto ora io ho preso solo l'H4 cioè l'obiettivo 4 solo quello carbone organico ma ci sono anche tutti gli altri obiettivi il suolo sta un po' da un sacco di parti per esempio nell'H4 c'è la BCA1 gli ex greening dove c'è la riconversione delle superfici mantenimento dei frati permanenti protezione delle zone umide delle torbiere questa è nuova quindi in cita bisogna individuare tutta una serie di suoli tipici di questa zona per proteggerli per fare sì che non siano toccate riserve naturali e quindi serbatole di carbonio faccio un esempio apro una parentesi sia in Veneto che in Emilia Romagna c'è c'è un problema di subsidenza dei suoli torbosi perché appunto a causa del fatto che vengono lavorati quindi poi si trasformeranno in black soil e lì ci hanno sempre che a un certo punto poi mineralizzando si trasformano e lì escono da diciamo dalla classifica del solito urbosi poi c'è il divieto di bruciare stoppie quindi incorporazione delle stoppie delle baglie di riso al suolo sempre tutte misure per l'incremento di carbone organico è solo questo poi erosione quindi tecniche di gestione delle lavorazioni più rispettose solchi acquai livellamenti non autorizzati tutta una serie di però voglio dire anche perché sono dice la pianificazione dei solchi acquai e di certe misure a seconda dei tipi di suolo è diversa cioè sul suolo argilloso il solchi acquai lo posizionano in un certo modo noi ci abbiamo pazzofi e ci ha fatto tutta la capiera cosa che ha disegnato il solchi acquai e a fare le prove capito nel collinare quindi il suolo è fondamentale per la pianificazione di tutti questi interventi in modo che siano efficaci cioè il modo da dire agli agricoltori guardate in questo contesto territoriale dovete far così e no cosa perché se poi non danno risultati sperati al giro dopo il contributo non arriva capito poi c'è la copertura del suolo per mantenere nei pianeti più sensibili vado veloce nuova ripresa del green in grattazione delle colture quindi questo solo per la parte vi ho fatto vedere solo un H l'obiettivo 4 poi ci sono anche come diceva Igo tutti gli altri eventi ora ritorniamo ora approfondire però alcuni aspetti operativi perché quindi noi ci dobbiamo confrontare con una struttura spy che che è meravigliosa questa cosa qui per dire uno dice chi va a fare i nuovi manuali spy chi le va a gestire allora ci sono una nuova definizione di unità tipologiche di solo chiamate the rival soil properties che prima venerano chiamate st1 dice non le puoi chiamare st1 no ci metti nel manuale si chiamano the rival sono le ex sd poi le unità cartografiche sono solo il body che erano le tipologie di prima ora sono le unità cartografiche quindi le potevi chiamare un altro no le chiamo come si chiamavano le tipologie per il generale confusione ma insomma i concetti diciamo le parole sono le stesse ma concetti diversi per stessa quindi ora ci dobbiamo confrontare sempre con la stessa struttura con le cartografiche e diciamo solid body come vedete le deraie del soil properties sono praticamente gruppi di suoli simili le tipologie che insistono su un soil body su un'unità cartografica con certi percentuali che raggruppano tutta una serie di pedo solita storia ok qual è il punto che c'è una griglia stavolta di riferimento cioè c'è una griglia di riferimento però la griglia di riferimento prevede che tu ci possa che tu possa comunque usare anche i poligoni cioè l'approccio poligonale fermo restanto che poi però il conteggio finale viene fatto sulla griglia di riferimento al chilometro ok ora è molto più semplice trasformare invece lavorare anche in griglia vettoriale alla stessa diciamo alla stessa incardinata sulla griglia di un chilometro noi abbiamo fatto diverse prove e vorremmo andare in Toscana per il progetto Procent è stato fatto una cosa simile noi nel Lazio l'abbiamo fatto e questo infatti sono dei sottosistemi di pedologia a 250.000 trasformata poi in 100 metri e praticamente abbiamo un cardinato sulla griglia quindi bisognerebbe vorremmo fare un qualcosa del genere con i nuovi strumenti aggiornando le banche dati perché nel frattempo aggiornando le banche dati e aggiornando anche le tipologie nel frattempo sono cambiate tante cose è stato fatto anche che appunto ai confini ormai diciamo bisogna armonizzare quindi ci sono varie opzioni ci sono degli strumenti semi-automatici che possono consentire di fare la cosa diversamente da come si faceva prima perché tutti i cataloghi compreso quello dell'Azio noi abbiamo fatto un semi-automatismo nel Lazio con a suo tempo Paolanti praticamente è stato i cataloghi regionali prima vennero fatti l'aggruppamento dei profili a stima di esperto stima di esperto conoscitore del territorio diceva questi profili sono simili queste altre sono simili perché sono stati classificati così hanno queste proprietà diagnostiche hanno questa risposta all'uso culturale e quant'altro ora c'è ci sono degli strumenti già da tanti anni molto più potenti che ora sono tutti ingegnerizzati nei package dentro R molto più potenti questi sono americani ma ci sono anche francesi che hanno messo appunto anche in Francia ma quelli più conosciuti che in qualche modo fanno la classificazione numerica a partire da tutta una serie di diciamo di dati informazioni del profilo la prima pare può essere la classificazione ma anche no la profondità dei profili la profondità degli orizzonti certi parametri analitici quelli che normalmente si usano per classificare le tipologie per agrupparli che si dura il carbone organico il carbonato di calcio lo scheletro l'acidità il grado di reazione la capacità di scambio e quant'altro vengono clusterizzati e in qualche modo classificati con una ranking e soprattutto con questi sistemi si può gestire centinaia di profili tutti insieme che chiaramente è una cosa che l'esperto non può fare perché l'esperto si mette lì l'ho fatto anch'io e dici questo dove lo metto qui quest'altro dopo dove lo metto di qua poi per ogni tanto ricontrolla però non può gestire 50, 100, 200 profili contemporaneamente facendo le statistiche questi strumenti ora consentono di avere sott'occhio tutta la variabilità quali sono i profili che per certe caratteristiche sono outlier cioè rappresa quindi classificarli in qualche modo tutte queste caratteristiche usarle per una classificazione numerica e confrontando qual è l'ipotesi l'ipotesi è confrontare lo stiamo facendo in Toscana e in Lazio riprendiamo tutti i profili non consideriamo i cataloghi esistenti e applichiamo queste cose e poi vediamo cosa viene fuori rispetto a quello che gli esperti hanno detto l'ipotesi è quella che si possa migliorare in qualche modo però questa è un'ipotesi è un obiettivo è diciamo un'opzione 1 poi c'è anche l'opzione 2 comunque si può utilizzare il dato per trasformarlo in derived properties presente nei cataloghi e aggregarlo il dato realizzato con metodo di tradizionale quindi c'è anche l'opzione 2 uno dice non voglio applicare il metodo automatico voglio applicare il metodo classico e trasformo diciamo trasferisco la mia informazione e qui c'è il problema il problema per questo tipo di opzione qui è che se si adotta questa opzione e le varie regioni trasformano nei cataloghi regionali nella struttura super spy esiste comunque il problema che ci devesse qualcuno a un film che si mette lì a armonizzare quello che sta di qua che è un'operazione cina non da poco soprattutto presunto un livello di conoscenza notevole quindi ecco da questo punto di vista dice che la fauna centralizzata roma sta lì e dirige no a quel punto lo dice bene tra piemonte e liguria si fanno una serie di riunioni i liguri e i genottesi e decidono quali sono come si sta facendo il gardino l'ha fatta un po' avanti e decidono al confine come si questa qui uguale a questa cosa qui bene no forse e in qualche modo nei territori negli stessi territori trasversali contigui decidono come armonizzare poi dopo queste fasi di una centralizzazione c'è il problema della spazializzazione anche qui le spazializzazioni ormai ci sono metodi di digital soil mapping di tutti i tipi molto potenti noi abbiamo provati alcuni ci sono pubblicati dei lavori oppure si può anche qui usare il 250 pedologico esistente per semplicemente trasformarli diciamo in quelle celle a 250 grid anche qui c'è il problema però del trasferimento dell'informazione perché se tu in un poligono hai un'informazione del 20% di un suolo dell'80% di un altro se lo tagli in n celle e non sai dentro le celle come è distribuita l'informazione non puoi dire in ogni celletta c'è sempre 20-80 20-80 no quindi devi in qualche modo provare una metodologia di covariate territoriali per spazializzare l'informazione dire il 20 sta qua e l'80 sta qua quindi abbiamo vari approcci possibili dal più tradizionale quindi è una situazione estremamente elastica dal più tradizionale possono anche o l'automatizzato questi approcci possono anche coesistere nel passaggio tra regionale nazionale cioè ci può essere un'informazione strutturata in un certo modo a livello regionale e magari un po' più classica e magari a livello nazionale per fare delle lavorazioni di un certo tipo è armonizzata e magari ha una struttura un pochino più dove certe relazioni tra paesaggi e giornale sono state automatizzate in qualche modo per riuscire a gestirle che poi ripeto l'armonizzazione non è solo al confine l'armonizzazione è anche tra suoli della provincia di Siena il pliocene della provincia di Siena e il pliocene della Basilicata capito? cioè non è che è solo un problema di confine possono essere anche i suoi problemi interni cioè ci possono essere intere zone e poi aiutarti simili ma non che passano al confine necessariamente sei a 30 minuti bene vado avanti questi sono i lavori finisco finisco ecco c'è il problema dell'aggiornamento grande problema io mi sto scolando dal diverso tempo ma nessuno mi sente perché i problemi complicati si perdono a bypassare questo succede anche nella ricerca avanti troppo obbligato si fa finire niente e si bypassa ora noi abbiamo la manca dati che sono andata a interrogarmela le date estremamente variabili nel tempo ci sono tantissime aree tante regioni che hanno dati del 90 del 2000 l'ultima diciamo con rilevamenti estesi è stata la regione Lazio che ha un programma di 250 mila finito nel 2016 2017 quindi sono dati estremamente datati cioè qui c'è un problema di soil health law c'è un problema di dati di carbonio c'è un problema di carbon credit ora e noi ci presentiamo un'intere zona del paese con i dati di carbonio del 90 cioè qualche è realistica questa cosa? penso di no quindi secondo me è necessario fare un aggiornamento allora per creare una baseline i sistemi per fare l'aggiornamento ci sono tarati e testati ci sono vari modelli di turnover di carbonio sui profili opportunamente calibrati e testati il gruppo di Roberta ne ha testati molti soprattutto il progetto di riferimento appunto è carbo quello che lei ha dentro anche le colleghe e anche Maria Costanza Adrenelli quindi ci sono già delle metodologie qual è la fase onoriosa? c'è una criticità che i dati di gestione che vanno messi insieme oltre ai dati climatici quelli però sono facili i dati di gestione culturale quelli ricostruirli nelle varie zone d'Italia non è facilissimo e in questo senso la diciamo la presenza nella rete delle regioni è fondamentale perché sono quelli che molto spesso hanno accesso e hanno anche il polso della situazione su come vengono gestiti localmente certi tipi di crop in system insomma dei sistemi di ordinamenti culturali quindi il punto è mettere a sistema tutta l'informazione quali sono altre attività? noi abbiamo iniziato per esempio la caratterizzazione idrologica dei suoi noi abbiamo una banca dati di misure in crea molto ampia avevo parlato a suo tempo anche alcune regioni ce l'hanno tante misure idrologiche ecco mettere a sistema e cercare di far dialogare tipologie di misure diverse e metodi diversi questo è un lavoro fattibile incorporare tutti i dati indicatori microbiologici che abbiamo nei nostri database piuttosto che in altri database questo tra l'altro è un'attività che sta facendo bene il collega Mocali che è coordinatore di questo sottopoggetto di ricerca e poi comunque trovare lavorandoci altri l'armonizzazione con pdf e altri dati di tipo fisico chimica e biochimico in modo da avere un sistema armonizzato dove perlomeno a livello italiano si riesce a utilizzare il massimo possibile dell'informazione ma chiaramente alcune cose non sarà possibile perché non tutti i metodi possono parlare con altri però almeno mettere a regime quali sono i punti chiave abbiamo concluso punti chiavi sono bisogna mettere su dei protocolli d'intesa sicuramente con le regioni ancora che hanno servizi esistenti bisogna mettere dei protocolli d'intesa tra crea possibilmente questa cosa andrebbe anche sponsorizzata dal masas per mettere appunto dei protocolli d'intesa tra le regioni e il crea il protocollo d'intesa attenzione non è una convenzione è un protocollo che non ha soldi dietro ma dentro il quale si possono attivare delle attività finanziate comuni cioè io per esempio il protocollo d'intesa con il giro episodio abbiamo fatto un protocollo d'intesa con ispra o con le terze fatti dopodiché abbiamo fatto le convenzioni con il giro episodio facendo riferimento al protocollo il protocollo dice che noi siamo interessati a collaborare su certi tipi di attività ok tra l'altro anche l'attività di formazione perché il problema della formazione dentro i servizi internazionali esiste non è un problema da poco per il futuro perché io sarei dell'idea che anche i pedologi attuali dovrebbero tutti far formazione continua perché non è una cosa la pedologia cioè se uno non esercita poi piano piano si perde chiaramente poi c'è l'istituzione di un comitato tecnico di revisione aggiornamento di questa base dati quindi stabilire un gruppo di tecnici regioni crea che si ritrova a date fissate e comincia a discutere come si fa a fare questo come si fa a mettere a punto questo protocollo c'è un elerico i metodi e decisione da prendere si discute e chiaramente alla fine definire chiaramente scusate mi sono perso sì sì era la conclusione scusate l'ultima però cioè definire veramente no no va bene ah va bene lo diceva a voce non è che quindi definire chiaramente i ruoli operativi e le scalezze io vi ho fatto vedere tutta una serie di metodi più o meno complessi se ci sono due strade sostanzialmente che possiamo seguire o la parte scientifica fornisce al servizio del suono regionale tutti i metodi necessari che siano metodi modelli e spiega come si fa e la regione prende la propria informazione e se la fa fermo restando la verifica congiunta dei buoni risultati oppure viceversa oppure una via di mezzo insomma ecco voglio dire questa è un'operazione che può essere fatta direttamente da tutti gli attori della rete l'ideale sarebbe che tutti avessero dentro i propri gruppi e questo ritorno a quello che è detto l'operazione noi bisognerebbe incentivare a fare sì che tutta una serie di operazioni tecniche perlomeno qualcuno del vostro staff le sa fare non le sa fa benissimo magari si aiutano noi però ecco avere far girare certi package di R per certe spazializzazioni fare girare modelli quindi tutta una serie di attività io so grazie bene grazie Rosario se ci sono dubbi domande direi se possiamo quale la base di dibattito così non perdiamo il ritmo delle nostre relazioni adesso passiamo al ecco qua si monitoraggio regionale nazionale del suono e il contributo scientifico di IJP Soil per l'armonizzazione europea Maria Fattapie che è già qui dietro libera ricercatrici la parola cosa succede? ci è rimasto anche nessuno no ci siamo ok allora il titolo è stato già letto in parte mi hanno già anticipato Rosario praticamente io presento la attività svolta nell'ambito del GPS al WP6 per l'organizzazione dei lati del suolo non si sente ok per andare avanti qui successivi ok allora vedo che è tutto un po' combinato però non importa perché il titolo è spostato in basso comunque allora l'obiettivo del WP6 del GPS è quello di supportare l'armonizzazione dell'informazione dei suoli per il monitoraggio dove ci sta scritto ora è coperto allora qual è la situazione attuale? la situazione attuale è che ci sono delle politiche che richiedono la protezione del suolo e quindi anche il monitoraggio è una mappatura dei suoli a livello europeo abbiamo ESDAC quindi il DRC che svolge attività sia di cartografia che di monitoraggio tramite il progetto LUCAS e poi ci sono a livello nazionale vari servizi di cartografia e di monitoraggio in entrambi i casi ci sono poi al conto perché a livello europeo è molto probabile che i dati dell'iscrizione non siano rappresentativi però almeno sono armonizzati a livello europeo lavorando a livello nazionale abbiamo assolutamente dati più rappresentativi però non sono armonizzati da Stato a Stato quindi l'idea del GP-SOL sarebbe quella di arrivare a un sistema coordinato con la partecipazione attiva degli Stati però armonizzato a livello europeo ok non riesco a andare avanti con questa cosa ecco ok anche io avevo un'animazione e non è venuta fuori è che non funziona si si a powerpoint con libro è mai perché ha aperto con libro office non era porto così perché è un libro office non è un powerpoint normale è lo stesso per voi anche a me non riusciva è strano uniera un powerpoint si 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 posso provare a farlo con powerpoint no prima con powerpoint ormai ma il problema è che l'apre è l'apre e lo salva è che l'animazione è salvato svolta nell'ambito della Global South Farm ci è portata a prodotto la carta del carbone organico del Top Soil è evidente che questa è stata un'attività svolta appunto ogni nazione in maniera separata quindi si dice country driven molto positiva questa cosa perché hai accesso a più dati però ovviamente si creano problemi a confine ecco questo è una cosa dovuto anche dal fatto che noi abbiamo fatto un'indagine nel GP Soil i diversi stati ovviamente applicano metodologie diverse per l'analisi dei suoi, qui anche un clare esempio per i quattro parametri di suolo non solamente questo anche a livello di protocolli di campionamento ci sono la più variata diversità di protocolli applicati nei vari stati come profondità di campionamento se viene fatto per l'orizzonte o per l'Ajers eccetera, anche il campionamento in campo, l'unica stella composito nel più vari modi allora quindi nell'ambito di GP Soil abbiamo introdotto un'attività che in realtà in origine non era prevista ma che ci è stata proposta da JRC e quindi noi abbiamo accettato questa iniziativa di collaborare a l'attuale monitoraggio del 2022 cioè diciamo dell'anno scorso però che si è presata anche quest'anno attuando praticamente un doppio campionamento con alcune regioni in particolare con la Lombardia e il Veneto siamo andati a prelevare dei campioni al JRC un sottogruppo di campioni che una parte verrà analizzata al JRC una parte l'analizza a Arpard e non solo abbiamo anche applicato in certe in alcune siti della Lombardia e del Veneto anche diversi protocolli di campionamento quindi confronteremo anche l'effetto dei diversi protocolli inoltre noi siamo l'unico stato all'interno di GP Soil che faremo anche il confronto sulle analisi biologiche e quindi abbiamo anche prelevato tutti i campioni Lucas dell'Italia analizzati per i parametri biologici questo è infatti il quadro generale di tutti i paesi in realtà vedo che anche qui non è molto la scritta va sotto sì comunque diciamo che in Italia abbiamo anche i campioni biologici ecco volevo dirvi che questa attività è stata citata la settimana scorsa a Madrid come una delle attività che la Commissione ha valutato positivamente promossa dal GP Soil questo è il double sampling il problema è che abbiamo saputo proprio la settimana scorsa a Madrid noi ci aspettavamo di avere i risultati delle analisi europee svolte dal laboratorio selezionate sì quest'anno anzi a fine estate in realtà purtroppo hanno avuto anche loro anche loro non sono problemi duratrici hanno unito problemi nella selezione del laboratorio e quindi ci è stato detto che se va bene ci vedranno i risultati alla primavera del 2024 ecco quindi ci sarà un po' di problemini nel realizzare ecco perché per dire che questa attività è finalizzata a produrre quelle che vengono chiamate anche nella Sol Monitoring Law le transfer function che dovrebbero essere funzioni per trasformare da un metodo analitico all'altro ce ne sono già quindi in molti casi le danno semplicemente calibrate con dati prelevati nel 2022 per alcuni parametri può darsi invece le dobbiamo addirittura provare a elaborare a seconda della numerosità dei dati disponibili non è detto che si riesca a elaborare delle funzioni di trasformazione diciamo accurate però insomma faremo del nostro meglio ovviamente più tardi ci arrivano i dati in meno tempo avremo per elaborare queste funzioni trasformate e qui in questo slide volevo appunto parlare del quanto sia importante la questione dei metodi analitici questi sono quelli che sono stati pubblicati da tramite lo situazione nazionale teleologico che sono l'attuale riferimento legislativo per l'Italia è in corso una revisione di queste metodiche una ripubblicazione e quindi niente questo per puntualizzare come appunto nell'ambito di questo monitoraggio europeo dell'armonizzazione quanto sia importante appunto fare riferimento ai metodi standard sappiamo anche che in molte regioni su molti metodi siamo già andati oltre meglio previsto qua in questi metodi che vengono in realtà attuati altri metodi e quindi per questo è una necessità dell'aggiornamento e ovviamente nella Sol Monitoring Law sono citati ulteriori metodi di riferimento europei e quindi da lì la necessità dell'armonizzazione fra le regioni e l'Europa e appunto ribadendo il concetto di questa armonizzazione è necessario che ci sia per l'Italia c'è già in effetti c'è la SIPA un sistema di non solo di armonizzazione appunto dei metodi ma anche di controllo di come vengono svolti queste analisi con ring test in maniera che appunto anche nell'esecuzione dello stesso metodo si ottengono valori comparabili che non è sempre detto e segnalavo che c'è anche appunto a livello della Global Partnership la Glossolan che sta facendo un lavoro importantissimo di armonizzazione a livello globale di pubblicazione delle standard procedures e molti laboratori già sono entrati in Glossolan anche a livello italiano tra cui ad esempio ARPAV che io ho messo qua l'idea sarebbe che i laboratori del suolo di riferimento per l'Italia entrassero a far parte anche della rete Glossolan per poter partecipare a questa attività anche mondiale ok poi passiamo invece alla seconda parte della mia presentazione che è quella relativa alla Sol Monitoring Law proposa io ho centrato molta parte della presentazione su due aspetti quella dei distretti la definizione di distretti e quella appunto anche dei punti di campionamento quindi il posizionamento e la numerosità dei punti di campionamento previsti allora come vedete da uno stralcio della proposta i distretti sono definiti in maniera che ci sia una armonizzazione all'interno di ogni distretto in base a tipo di suolo condizioni climatiche e grandi gruppi di uso del suolo inoltre per ogni distretta andrebbe disegnato una solità competente ci ha detto poco fa la Francesca che in realtà non è così stretta nella revisione hanno deciso giustamente che magari non sia necessario avere per ogni distretto una solità il che già rende più facile la cosa ma comunque diciamo che vanno disegnate anche queste autorità allora si sta ragionando su come ipotizzare questi distretti una ipotesi è quella di utilizzare i distretti nel nostro caso abbiamo le autorità di bacino nel senso perché le autorità di bacino sono già definite a livello legislativo c'è già un riferimento normativo e quindi questo sarebbe un vantaggio siccome si falla di avere il livello di riferimento che è il Nats 1 per l'Italia avremo almeno 5 distretti da definire il minimo sono 5 quindi diciamo che come numerosità i distretti idrografici non sarebbero male ma il problema qual è il problema è che come voi esperti di suoni in Italia potete ben vedere questi distretti idrografici sono utili dal punto di vista del sistema idrografico del suolo ma per quanto riguarda le caratteristiche del suolo sicuramente non sono rappresentativi delle diversità dei suoli italiani forse un po' quelle climate ma quelle di suolo sicuramente no quindi allora l'altra idea invece è quella di usare la famosa Italian Survegion che noi su cui noi abbiamo lavorato in tutti questi anni perché come è ben noto le regioni pedologici italiane della scala nazionale sono basate su come è spiegato nelle condizioni di riferimento sono basate sul clima sulla World Reference Space e quindi direi che sono assolutamente conformi a quella descrizione data dalla Solicitoring Law Proposal nel caso delle regioni del suolo resta il fatto che vanno a cavallo fra una regione amministrativa e l'altra questo vale lo stesso anche per i vaccini insomma ok quindi allora per quanto riguarda anche perché l'altro riferimento sono gli usi del suolo gli usi del suolo vengono praticamente divisi in questi grandi gruppi volevo farvi vedere questa animazione perché in effetti la Corinne Lankover e quella che è gli usi del suolo definiti da Lucas praticamente coincidono e quindi diciamo che il riferimento sono questi grandi gruppi di uso del suolo quindi oltre ad avere la definizione come tipo di suolo e clima andrebbero definite anche diversi usi del suolo raggruppati in questi grandi raggruppamenti e la cosa che contraddistingue anche la Sol Monitoring Law è che non si tratta solo dei tipi di usi del suolo a cui noi siamo abituati quindi agricoli e forestali a limiti naturali ma ci sono anche le aree urbane cioè per la prima volta si inserisce anche il monitoraggio dei suoli urbani che per quanto ne so io per noi è un po' una novità ecco quindi ci sono le cose del mare allora le crop land rientrano diciamo questo è un uso agricolo sia colture estensive che colture permanenti questo è il dettame del l'estate prototale questa è un'attività che è stata svolta con una collaborazione di vari esperti a livello europeo quello che volevo presentare al di là di entrare in tutta la disanima degli indicatori dove per esempio è molto interessante diciamo nella storia Monitoring Law è previsto solo la respirazione mentre grazie anche a Minos al progetto di GipiSoli si è investigato che per analizzare correttamente la biodiversità ci sarebbe bisogno di tutta una varietà di indicatori molto più ampia ma senza entrare appunto in questa analisi che è stata fatta sui singoli indicatori in questa presentazione volevo farvi vedere sempre fondando il discorso dei ristretti che in realtà il monitoraggio non è così banale a seconda anche del tipo di indicatore perché ci sono degli indicatori che possono essere indagati a livello di campo quindi c'è con il classe di rilevamento puntuale mentre per esempio per quanto riguarda l'erosione può essere fatto sia a livello di campo con le famose carcelle che misurano l'erosione difficilissime da mantenere ma insomma ma in realtà molto spesso si fa a livello di bacino considerando il sedimento in uscita dall'acqua in uscita in uscita il calico nelle acque che escono dai bacini quindi io mi sono fatta questa idea ma ha una discussione su questo che secondo me poi senza parlare del ceiling il ceiling è tutta una cosa che la fai a livello di satellite immagini da satellite quindi in quel caso secondo me non ha manco senso di parlare di distretti quindi quindi secondo me potremmo pensare di avere diversi tipi anche di distretti dei distretti più legati bacini legati a un discorso erosione e acqua e invece quelli legati a tutti gli altri parametri ecco quindi io lancio un po' intanto abbiamo due anni che decide questi distretti c'è tempo per ragionare dopo magari ok allora questo invece era un po' un ragionamento che si riallaccia a quello che diceva la Paola e Francesca sul discorso delle soglie in realtà l'assormonatorio è abbastanza flessibile su quasi tutti i parametri eccetto due uno è l'erosione e uno è il carbone organico che giustamente sono stati criticati e il carbone organico per cui appunto sono state definite invece delle soglie uguali per tutta Europa ovviamente sono state ridicate non solo dall'Italia per fortuna e quindi niente abbiamo ragionato nell'ambito GP Sols quali potrebbero essere le varie approcci di valutazione di queste soglie e quindi ci sono valori fisici per esempio dall'Eurofino Environmental Agency c'è una tabellina sul carbone organico il discorso che dicevo prima utilizzare la modellista per trovare l'ottimale raggiungibile in una certa zona e poi in base all'ottimale tu dici mi basta arrivare tipo un 80% un 70% rispetto all'ottimale no non lo so così l'altra idea sarebbe anche banale quella di fare un discorso relativo se io incremento mi sto comportando bene un altro approccio che è stato proposto da Jersey è quello su una distribuzione io su questo sono un po' critica la distribuzione delle popolazioni il problema lì è che se tu non hai un database raccontativo di tutta la variabilità possibile lo applici difficilmente ecco poi finisco la presentazione sulla questione dei numeri nel senso che nella Sol Monitoring Law Proposal danno anche dei numeri e quindi dicono che Lucas dovrà costituire il 20% di tutto il monitoraggio complessivo quindi gli stati devono mettere il restante il 80% in questo momento i siti Lucas nel 2018 erano 1242 e vi volevo far vedere che la no sono andata indietro no questo è davanti allora la carta appunto del 500.000 a 1284 profili quindi siamo più o meno lì come numerosità ecco queste sono le tipologie allora io guardando un po' a cercare ho visto che se non si parla di questa numerosità alla fine il livello di riferimento la scala di riferimento dovrebbe essere un 50.000 cioè il numero di punti che ci stiamo chiedendo è veramente elevato cioè non è da poco allora c'è una questione che in realtà e questa era stata giustamente sollevata da Stefano Brenna che in realtà ci sono altre le tipologie di metrage già attive per l'applicazione appunto di nomasi di vero per che quindi sembra un po' assurdo fare un monitoraggio solo per la monitorazione in low e non integrare anche gli altri monitoraggi oltretutto non è esclusa la possibilità di avere dati che vengano da privati sempre che vengano analizzati da un laboratorio certificato ovviamente quindi diciamo anche su questo su come organizzare quanti punti dove metterli da che fonti come integrare i vari monitoraggi secondo me c'è da ragionare ecco con quali soldi giustamente come ci diceva Rosario come ci diceva Rosario appunto c'è già la FAC che dovrebbe mettere dei soldi quindi secondo me anche quello potrebbe essere potrebbe ok questo invece era per dirvi che è previsto anche che ci sia un portale per mostrare quei risultati di questo monitoraggio e l'European Solo Observer tutto dovrebbe arrivare all'European Solo Observer che è del GRC ha già creato un dashboard dove voi vedete già dei risultati fatti ovviamente negli dati europei per esempio questo è nel caso del livello del carbono le aree che loro al momento individuano le aree di gradate e niente c'è anche un progetto europeo che si chiama SolidWise dove noi creassiamo un partner che dovrebbe supportare l'implementazione di una versione migliore ovviamente di questo dashboard ecco questo invece per ritornare alla questione che noi comunque in suoi lab partecipiamo anche alla Global Sol Partnership abbiamo già prodotto questo ve lo presenterò domani la carta del carbonio organico come Italia e abbiamo prodotto anche la carta della salinità e queste in teoria sarebbero le mappe a cui siamo chiamati a rispondere che nel momento non ci stiamo muovendo salva su quella del sequestro potenziale dove so che la Roberta Farina con costanza Andrenelli si sta lavorando per realizzarla e ci sarebbe anche la carta dell'erosione la carta dei nutrienti insomma se avendo voglia se ne potrebbero fare varie e niente questa è l'ultima slide per dire che anche io continuo a presentare questa slide per dire che sono molto come dire l'iniziativa di Solab secondo me ha dato dei frutti importanti di collaborazione fra i radii e gli istituti e quindi vorrei che fosse mantenuta ecco vediamo beh insomma mi pare che siamo entrati in pieno in tutte le problematiche che avevo provato a mettere come indice all'inizio magari accendiamo la luce in fondo per evitare di sentire qualcuno usare ecco anche qua direi che passiamo alla fase di dibattito dopo se ci sono domande approfondimenti così non perdiamo i tempi previsti dunque adesso era previsto un intervento di colleghi della regione Piemonte Riccardo Graffi Irene Venturello e Anna Balsagna che però purtroppo sono bloccati in regione perché proprio su questi temi stanno subendo pressioni europee quindi hanno da preparare della documentazione forse domani riusciranno ad essere con noi anche solo in collegamento però abbiamo Simona Vagnina che ringraziamo molto di essere con noi del settore fitosanitario del laboratorio regionale tra l'altro con noi cercando di essere presente perché è qui da sono 20 anni che collaboriamo sulla questione dedicata ai suoli e grazie a lui il programma di livellamento dei suoli che a un certo punto aveva avuto un'innovazione è ripartito e poi dopo continuiamo ancora a lavorarci ed è un prezioso interlocutore della regione Piemonte però Simona a te la parola per illustrarci un po' quello che io ho solo accennato all'inizio cioè le dinamiche interrelazioni che ci sono tra suoli e sviluppo rurale nel passato e nel futuro in Piemonte buongiorno a tutti intanto grazie per avermi invitato come laboratorio faccio parte del laboratorio agrochimico della regione appunto con cui come diceva Igor è da anni che collaboriamo per la gestione dei suoli relativi al suolo e oggi vi illustrerò le politiche relative inerenti al suolo della regione e farò un breve accenno anche di quelle a livello nazionale allora innanzitutto come è già stata ampiamente citata nei precedenti interventi è partita il primo giornale 2023 la nuova programmazione della politica agricola comune il piano strategico nazionale 2023 e 27 che avrà una durata di 5 anni e ha come da tradizione tre obiettivi generali uno economico la competitività delle aziende e filiere agroalimentari uno ambientale la sostenibilità e la conservazione delle risorse naturali e uno sociale l'ingresso dei giovani in agricoltura e lo sviluppo delle comunità nelle zone rurale le novità di questa programmazione rispetto alle precedenti sono innanzitutto che è un piano nazionale con specificità regionali quindi come è anche già stato detto in precedenza la regia è del ministero non è più data alle singole regioni i due fondi FEAGA e FEADRA sono uniti in una strategia unitaria si ha un forte enfasi sui risultati e sulle performance sono state introdotte le ACIS che sono Agricultural Knowledge and Innovation System per modernizzare e digitalizzare quindi per innovare comunque quello che già è presente una novità sono gli ecoschemi che sono sostegni a favore dei regimi volontari per il clima e per l'ambiente la condizionalità sociale a tutela dei diritti dei lavoratori con migliori condizioni lavorative in aziende agricole e 8 macroambiti di intervento a livello regionale invece si ha il complemento di sviluppo rurale il CSR che è un documento che è stato approvato in giunta il 20 febbraio 2023 il budget per il Piemonte per lo sviluppo rurale di circa 756 milioni di euro di cui ne beneficiranno 50 mila aziende agricole su circa un milione di ettari di superficie agricola verranno attivati 50 interventi anzi sono stati attivati in parte di questi 50 interventi che sono azioni impegni che i beneficiari possono effettuare per accedere ai finanziamenti e ci sono diverse tipologie di beneficiari aziende agricole forestali di enti pubblici piccole medie imprese e così via qui vengono elencati le otto macro aree le otto tipologie di macro interventi quello che di cui mi occupo parzialmente io comunque che ci interessa maggiormente sono gli interventi agroclimatico ambientali e a livello di norme interventi inerenti il suono allora faccio un breve accenno a livello nazionale abbiamo su base volontaria gli ecoschemi in particolare l'ecoschema 2 in arrivamento delle culture arboree e l'ecoschema 4 sistemi forageri estensivi con avvicendamento argocco gente abbiamo la condizionalità rafforzata che è il regolamento 2115 del 2021 che indica le buone condizioni agronomiche ambientali e i criteri di gestione obbligatori tra le buone tra le bca ci sono tre in bca che interessano maggiormente il suolo e la tutela del suolo e sono la bca 5 la gestione dell'allaborazione del terreno per ridurre i rischi di degrado e l'erosione del suolo che ne vengono anche conto del gradiente della pendenza la 6 copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili e la 7 rotazione delle colture sui seminativi ad eccezione delle colture sommerse a livello regionale invece sempre su base volontaria abbiamo appunto gli interventi agroclimatico ambientali quelli che ha attivato la regione Piemonte sempre a tutela del suolo ovviamente tra i vari obiettivi c'è quello della tutela del suolo ma sono tutti interventi molto più ampi e strutturati c'è l'H1 produzione integrata l'H3 le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli l'H4 l'apporto di sostanza organica nei suoli l'H5 inervimento delle colture erbore la 6 colture di copertura e la 8 gestione sostenibile dei pascoli permanenti poi ci sono degli interventi trasversali le strategie AFIS allora nello specifico l'H1 questi appunto sono tutti impegni su base volontaria con un premio a ettaro all'anno per le singole aziende l'H1 prevede una gestione sostenibile della fertilizzazione attraverso analisi del suolo piano di concimazione e delle lavorazioni con inerbimenti di vieti in funzione anterioresiva eccetera l'H3 invece tecniche di lavorazione ridotta dei suoli si suddivide in due sottoazioni la semina su suolo e la minima lavorazione l'H4 apporto di sostanza organica nei suoli prevede l'utilizzo l'incentivo di utilizzo di letame di ammendanti compostati misti ammendanti compostati verdi in sostituzione ai fertilizzanti di sintesi l'H5 inerbimento colture erbore anche questa prevede due sottazioni inerbimento totale e inerbimento dell'interfila l'H6 colture di copertura favorisce appunto l'utilizzo di colture di copertura cover crop l'H8 gestisce i pascoli permanenti in quanto una gestione corretta e sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi favorendo quindi la protezione del suolo e della qualità delle acque altri interventi con altri target ma con effetti indiretti sul suolo sono la SRD04 rispettivamente SRD04 e la H10 la gestione degli investimenti non produttivi la gestione degli effluenti azotecnici la produzione biologica ovviamente e ho obiettivi trasversali come avevo già citato prima le ACIS e i servizi di consulenza e di formazione nel 2023 sono stati aperti questi bandi qui volevo solo farvi sottolineare alcuni numeri visto che delle ACA che interessano di più il suolo comunque c'è stata una forte richiesta addirittura molto superiore al budget che la regione ha a disposizione quindi comunque l'interesse dal comparto agricolo è molto elevato oltre a queste politiche del suolo come supporto regionale in materia di suoli abbiamo sulla pagina web del geocortale Piemonte i servizi di cartografia dei suoli prodotti da Ipla che probabilmente verranno poi illustrati dopo da Federico l'ARPA Piemonte con la sua rete di monitoraggio ambientale del suolo per la contaminazione di diffuse e puntuali valori di fondo dei metalli pesanti e il laboratorio agrochimico regionale che è proprio il nostro laboratorio che tra l'altro fa parte del circuito SILPA che è stato citato prima dove noi come laboratorio siamo un punto di riferimento regionale per l'analisi dei terreni a scopo agronomico per l'azienda agricole quindi abbiamo un servizio online di prenotazione di analisi e di tutte queste analisi che noi riceviamo dagli anni 70 ad oggi praticamente abbiamo una banca dati di cui adesso la stiamo man mano aggiornando e tutti i dati georeferenziati presenti che adesso sono arrivati a oltre 40.000 fanno parte di questo servizio trante dell'analisi dei terreni agrari sempre presente sul geoportale Piemonte in cui sono racconti appunto tutto questo storico di analisi di campioni di suolo ovviamente a scopo agronomico non pedologico quindi non c'entra assolutamente con tutto il lavoro che fa IPLA ma comunque è un buono strumento questa è la rappresentazione grafica del geoportale ogni punto corrisponde a un'analisi del terreno noi nel nostro servizio di prenotazione online abbiamo delle procedure di prelievo del suolo standardizzate tutti i dati che abbiamo poi li validiamo li raccogliamo li validiamo secondo un protocollo di validazione predisposto dall'università dal dipartimento di chimica agraria delle università di sudi di Torino quindi questo servizio comunque è fruibile e consultabile per tutti è disponibile sul nostro sito regionale e con questo io ho finito grazie prego questo operando da da prese dell'analisi del terreno ecco questo super quindi comunque il sì però non c'è la metodologia sì sì però comunque immagino voi avete delle profondità standard e prendete a quella profondità ecco sì è benissimo ma tornate sugli stessi punti o su tutti i punti diversi no non siamo noi che torniamo sono proprio raccolte di analisi che arrivano da agli agricole da chi è interessa sempre diverse magari poi alcune ritornano perché poi comunque ci sono anche c'è l'università o comunque campi sperimentali o o o comunque sono la maggior parte di queste analisi sono analisi dalla piacera della produzione integrata quindi ogni cinque anni le aziende agricole sono costrette a riparle quindi probabilmente abbiamo anche più analisi di uno stesso punto di uno stesso pensamento quindi no no sono i nostri i nostri no è vero ricordate sulle tipologie di suo in qualche modo un'analisi dell'andamento storico nel tempo si fa no no infatti sul geoportale adesso non si può far vedere comunque il geoportale è un il servizio geoportale della regione Piemonte lavora su su layer quindi si possono sovrapporre il servizio della carta dei suoni con quella dell'Atlante e viene utilizzato molto spesso per chi non analisi si ha bisogno di sapere non so i dati di pH di granulubitia di quelli vengono spesso utilizzati insieme comunque perché i dati della carta dei suoni sono dati ah ok vediamo che c'è un'altra domanda volevo sapere questi punti se sono corredati anche di informazioni riguardo alla cultura e alla gestione sì sulla cultura diciamo che abbiamo sulla cultura sì proprio sul servizio del suo geoportale è un dato che è presente per ogni analisi la cultura prevista cioè la cultura attuale in realtà poi nel nostro servizio di prenotazione ci sono anche informazioni sulla cultura prevista come gestione se ci sono presenti se il ferreno è stato lavorato meno se sì no subito che è la colina in bocca a noi modellisti viene subito la colina in bocca quando vediamo dati così perché possono essere usate se c'è anche la gestione del suolo della cultura sono poi 030 060 ma poi ci sono altre carte comunque dell'uso del suolo che possono tutte essere utilizzate insieme e sono anche scaricabili quindi cioè di dati di strumenti ce ne sono tanti comunque informazioni poi andiamo avanti sopra una parcella eh sì normalmente quando viene prelevato il campione sono le coordinate dove non è presente la coordinata precisa del punto di prelievo c'è foglie particella e noi calcoliamo centroide di quella di quella costicella forse volete devono essere utilizzate informazioni sì 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 perché sono consultabili le coordinate sì sì sono scaricabili se si scaricano comunque come gestione come consultabile come gestione non c'è solo la cultura presente anche perché non sono informazioni obbligatorie quindi molto spesso non ne abbiamo di tutti e non sono significative diciamo per un'elaborazione di un'elaborazione in generale bene ancora grazie Simona Avagnina per le informazioni poi dopo l'intervento che è l'ultimo intervento adesso che presentiamo abbiamo una fase di dibattito dove possiamo tranquillamente dialogare cercando solo di riuscire a far ascoltare la casa dove sono se no se parliamo uno sull'altro non riusciamo a far sentire dicevo l'ultimo intervento riguarda i miei colleghi Fabio Petrella mio collega pedologo Federico Menzio esperto di GIS al massimo livello che ci illustrano la banca dati pedologica piemontese dopo il loro intervento come dicevo c'è una fase di dibattito che precede poi un piccolo rinfresco che offriremo a te Federico Fabio come volete io semplicemente faccio un intervento introduttivo a quello che dirà più tecnicamente Federico semplicemente dicendo che IBLA porta in questo incontro l'esperienza di campo dei miei 40 anni di lavoro praticamente nel suolo 35 e l'Ipla che forse non sono pochi e che effettivamente hanno consentito a me e soprattutto il gruppo di lavoro che diversamente magari da altri è rimasto quasi costante nel tempo perché è esistito un primo gruppo pedologico quello che ha citato Rosario di Salandin Aias e Bertolino dopodiché sono arrivato io e il gruppo che si è aggregato diciamo alla nuova scuola di Salandin è tuttora operante oggi insieme al gruppo dei pedologi abbiamo avuto grazie diciamo alla particolare caratteristica del IBLA la possibilità di lavorare in continuo con gli esperti dei cartografi e informatici e questo ci ha consentito nel tempo di sperimentare risolvere problemi che come potete ben immaginare negli anni 80 90 erano di un certo tipo e poi successivamente grazie anche alle soluzioni informatiche tecnologiche che sono via via venute a svilupparsi a razionalizzare sempre di più l'informazione pedologica chiaramente noi abbiamo avuto nel tempo la possibilità di confrontarci con il committente e la regione nel trasferimento dati dal campo all'elaborazione dei dati e infine il passaggio di questi dati alla regione che è nella proprietaria questi dati sono i dati chiaramente dati puntuali pedologici di istruzione dei profili quello che sappiamo bene ma anche dati geografici e quindi abbiamo sperimentato anche poi Federico lo spiegherà meglio quali sono le problematiche pratiche di gestione di questi dati anche del semplice passaggio del dato quindi dai primi dei primordi degli studi pedologici dove l'IPA dipendeva comunque dal CSI Piemonte per tanti aspetti e poi si è reso autonomo e comunque poi ha continuato a dipendere per altri motivi dal CSI perché c'era un passaggio abbastanza macchinoso dei dati prodotti da IPLA a CSI che poi si trasferiva ai sistemi informativi della regione Piemonte quindi noi negli ultimissimi anni abbiamo proprio operato per risolvere tutti questi problemi questo sarà diciamo l'oggetto dell'intervento ultimo di oggi di Federico vi conto le due parole su quelle che sono i contributi di IPLA all'incontro di oggi e di domani parliamo adesso del sistema informativo pedologico quindi un po' facendo riferimento anche alle problematiche che diceva Rosario sul database nazionale quindi facciamo vedere come li gestiamo noi come si potrebbero agganciare a un database nazionale quindi direi che è un contributo importante anche perché viene dal passo quindi delle problematiche che in 30 anni da quando Federico sei praticamente con me a lavorare insieme su queste tematiche quindi utili per lavorare poi su database sempre più complessi nazionali europei e domani invece tutta la problematica carbonio e la problematica collegata al carbonio che è quella della biodiversità anche qui sul campo IPLA è da tempo che lavora perché oltre a fare le carte dei suoli lavora anche campionando il suolo per fare per applicare degli indici biodiversità che io ho concordato al tempo in cui venivo a Roma alla scuola della biodiversità di Diana Benedetti e quindi anche qui c'è una lunga esperienza del campo perché questi indici erano indici che si si studiavano in laboratorio o al massimo in campo cioè in campi in appezzamenti sperimentali noi siamo stati primi a tradurre un certo tipo di informazione e un certo tipo di indici di elaborazioni analitiche a livello di spazializzazione e di carte dei suoli quindi domani portiamo anche questo tipo di esperienza quindi non solo carbonio anche indici di biodiversità e poi tecnicamente domani vi farò vedere anche che IPLA non è che si occupa solo del carbonio diciamo a livello di cartografia di database per poi costruire degli scenari con fronti sulle possibili usi e quindi incremento del carbonio nel suolo ma anche le problematiche legate ai crediti di carbonio che è un tema che io praticamente sto studiando sviluppando per regione Piemonte con normative e quant'altro che all'inizio era solo nell'ambito forestale perché si potono produrre allora perché racconta niente solo crediti di carbonio forestali e che invece adesso diventano anche crediti agroforestali in ambito agricolo quindi c'è tutta questa esperienza che cercherò di portarvi domani questa è la panoramica adesso lascio la parola Federico per entrare nel dettaglio del sito grazie Fabio sì sono quasi 30 30 anni appunto che mi occupo di cartografia e uno specifico di cartografia dei suoi negli ultimi 20 questi sono i dati che abbiamo aggiornato a che giorno fa sola sulla carta a 150.000 e le 250.000 sono andate un po' più basse rispetto a per quanto riguarda sia le unità cartografiche che le generazioni quindi di politica questa è una vecchia presentazione che abbiamo fatto in diversi ambiti tempo passa per tutti è una cosa abbastanza scontata perché si occupa di suoli ma nel campo dell'informazione sulla pedagogia è molto sconosciuto quello che è il lavoro del pedologo piuttosto dell'analista piuttosto che del tecnico del laboratorio quindi quando si fanno queste presentazioni in consensi più tecnici rispetto alla cartografia è sempre ovvio che non è dato per scontato ad esempio che si capisca cos'è una nota cartografica di suolo e delle lineazioni questo più volte ad esempio con il CSI abbiamo avuto che è l'ente regionale che si occupa della gestione dei dati abbiamo avuto come dire riscontri di nomenclatura di definizione non lo diamo per scontato specialmente quando si parla con gente che il suolo non ne mastica quindi questa ovviamente ve la lascio così questa più che alta l'ho messa per far vedere allo stato attuale quello che lo rilevo di un suolo sul terreno per poi capire che cosa si vorrebbe fare in futuro cosa stiamo già cercando di fare a oggi non abbiamo ancora dei sistemi che ci permettono di colorare col suolo la carta ma forse in futuro non lo so quindi tenetene conto solo di quello anche questo lo diamo per scontato ovviamente ma è sempre anche su questo bisogna sempre un po' specificare a chi non ne mastica ma con il sito di sui lati sarà benissimo questa presentazione con anche questa perfetto diciamo che quando uno parla di orizzonti fasi profili eccetera se non parliamo a gente vabbè un consenso di questo tipo è facile in altri consensi fargli capire anche dal punto di vista tecnico perché il problema è la riflessione che io ho visto negli anni di trasformare questa cosa in un concetto comprensibile a chi fa lo sviluppo di software che non è così facile che si riflessiva devo dire che il vantaggio che diceva Fabio noi di IPLA ma anche di regione è che riusciamo ad avere un continuo scambio di informazioni tra chi sia un po' di cartografia di dati di informatica e quindi un po' di questi problemi li abbiamo superati li abbiamo superati dal 75 al 2015 qui siamo un po' ancora indietro di qualche anno però giusto per differenziare dai dati pedologici all'informazione pedologica quindi se partite con le campagne di rilevamento suoli è una prima realizzazione delle carte pedologiche ma non l'avete visto all'inizio conserviamo ancora e questo è un altro aspetto secondo me fondamentale anche da tenere conto nel futuro e anche dal punto di vista informatico perché su questo si stiamo lavorando di tutto quello che è l'archivio storico delle cartografie di suoli sia perché i suoli non cambiano o non cambiano se non per un intervento antropico ma possono cambiare nella consistenza del dato che viene elaborato perché le campagne ovviamente avete visto loro hanno 40.000 punti non abbiamo 12.000 ma quando si fa una campagna di rilievo poi magari le condizioni cambiano e quindi possono cambiare anche quelle analisi non solo ma cambiare anche come dire i modelli che noi applichiamo ai vari suoli perché magari si implementano delle analisi che non vengono fatte le analisi della fertilità biologica non sono 50 anni che le facciamo ma quindi quello è un incremento che si deve tenere in considerazione poi diciamo metà 80 metà 90 si creano le prime banche dati informatizzate e si comincia a digitalizzare dal punto di vista informatico le carte di suono metà 95 2005 viene creata la prima versione del sistema informativo pedologico e a quel punto tutti i dati cartografici invece sono già informatizzati arriviamo all'ultima diciamo l'ultima decade scudendo proprio l'ultima quella più contemporanea viene consolidato il sistema informativo pedologico con un visualizzatore cartografico interno e i dati cartografici invece vengono incominciati a essere gestiti in un geodatabase il problema è che fino a come abbiamo detto fino a 2015 sì tutto il sistema ha la sua software proprietario questo volete una serie di problematiche problematiche numero uno per il software proprietario ovviamente non essendo libero aveva poche interazioni per l'intensa i sistemi di database di geodatabase e database analitico erano separati su due sistemi diversi perché la parte sopra che era la parte di banche dati viveva su Visualforce Pro che è un sistema di gestione di database molto potente perché permetteva un sviluppo molto più efficiente ed efficace di access e permetteva anche l'integrazione di un visualizzatore cartografico parliamo degli anni 90-2000 in tempi non sospetti ma invece tutta la parte di geodatabase fatta col software Argis era solo access che non è il database però diciamo che lo chiamano geodatabase ovviamente tutto questo era un processo asincrono perché Visualforce Pro riusciva a leggere non il geodatabase ma solo il shape quindi dal geodatabase veniva a far esportare lo shape si verificava tramite il Fox Pro e la project la bontà del dato inserito se il dato era buono veniva riesportato reintegrato nel geodatabase e poi alla fine esportato è chiaro che l'allineamento non era sincrono non era sincrono aveva tutti i suoi limiti il geodatabase di Access portava al massimo 2 giga di spazio oltre 2 giga non ci potessero stare i dati quindi c'erano una serie di limiti quindi mi fa piacere vedere che a livello nazionale cominciamo a parlare di database aperti si è passati tutti a sistemi aperti quindi per quanto riguarda il database diciamo relazionale di analizio Postgres stessa cosa vale per il database geografico con l'impegativo Postgres il vantaggio di queste due cose è che in un unico database ci sono tutti i due dati sembra anche questa una banalità però ancora in Regione Piemonte se lo dico con l'EIC c'è qualcuno nelle ASA ad esempio che utilizza senza parte geografica le parti geografiche inserite in un oracle ma non col gestore geografico cioè come dati blob che detto così tecnicamente non vuol dire niente semplicemente quando loro esportano i dati dati li trovo in Turchia perché hanno invertito l'attitudine longitudine anzi non in Somalia perché è così funziona così tra l'altro un'attitudine longitudine ma anche un UTM ok l'altro aspetto non di secondo piano e su questo devo dire che l'utilizzo di regliati è fondamentale è la quantità di dati che io riesco a elaborare perché è un lavoro che abbiamo fatto che presentiamo domani con sul carbone con il CNR abbiamo gestito tra i 2 milioni e mezzo di punti se parliamo di griglie a 100 metri ai 62 milioni e mezzo di punti se parliamo di griglie che sono invece a 20 metri quindi la scalabilità del sistema è altissima altro aspetto che è fondamentale per chi fa modalizzazione ovviamente tutta la parte di analisi dei dati non viene più fatta tramite QGIS è un strumento potentissimo dal punto di vista di elaborazione e analisi è pessimo ma viene fatta tutta sulla base Postgres quindi con tutti i modelli diciamo SQL che possono essere scalabili possono essere integrati e modificati anche modificando i dati di partenza riapplicando lo stesso modello ovviamente la struttura deve essere uguale ma se cambia il dato facciamo un esempio io voglio fare l'analisi di un'interrelazione tra suoli e uso del suolo al 2000 basta che io abbia la stessa struttura dati al 2020 dell'uso del suolo che faccia generare il modello e ho l'analisi rifatta senza dover scrivere una riga di codice questo è un vantaggio di non secondo piano questo noi abbiamo fatto forse anche qui non sa per le high natural values che sono entrate tra l'altro nel piano svuco orale per l'apicoltura H18 esatto H18 praticamente abbiamo preso il modello fatto 5 anni fa abbiamo riapplicato il modello con qualche piccola correzione con i dati nuovi perdendo pochissimo tempo diciamo in realtà c'è stato un piccolo disquisire sul metodo di ad esempio in questo caso di scelta di qual è l'elemento più rappresentativo l'interno di un grigliato e lì si è scelta ad esempio la moda cioè lo stesso grigliato che il grigliato europeo è quello di un chilometro ridotto a 100 metri noi l'abbiamo ridotto ancora a 20 per l'uso del suolo o a 10 o a 5 a seconda del dato perché ad esempio sull'agricoltura abbiamo preso i dati delle particelle quindi per 20 metri non si può scendere all'interno di un grigliato di 100 metri si fa una scelta che è quella ad esempio del dato più rappresentativo su venticelle qual è la moda oppure si può usare la mediana noi abbiamo usato la moda perché tanto non c'era molta differenza devo dire tanto per dirmi una è un esempio più pratico questa è la struttura anche qui detta così per chi ne mastica è facile per chi invece non ne mastica è un po' più complicata ma la cosa interessante è non tanto quello che viene esposto sul geoportale perché quella è una fotografia semestrale quello che voi avete visto adesso ve lo faccio a vedere è una fotografia semestrale ma all'interno nel momento in cui vengono fatte delle modifiche sulla parte analitica quelle modifiche si trasmuttano automaticamente sulla parte geografica faccio l'esempio della carta della capacità d'uso ve la faccio anche vedere se dalle analisi viene fuori che è la capacità d'uso di quei due colligioni o meglio di quelle due unità per aggiornamento delle analisi non è più classe prima secondo terza ma diventa quarta quinta sesta nel momento in cui viene modificata semplicemente la parte analitica automaticamente a tempo zero la parte geografica è aggiornata dal punto di vista tematico anche questo sembra una banalità ma una volta non era così una volta bisognava passare i dati controllare e quindi ha fatto un portociccuto che non deponeva a favore ovviamente anche perché ad esempio la regione lo sta ad esempio noi telefono anche i comuni perché la carta di capacità d'uso è documento informativo per il planificatore progette per l'agrovoltaico che sta partendo adesso e quindi cosa succede ma ad esempio su questo c'è anche ignoranza da parte dei comuni questo è anche stato detto perché molti comuni vanno ad accedere ad esempio accedevano al dato dell'arpa al 250.000 sul sito dell'arpa che non è neanche quello aggiornato e aggiornano al 250.000 quando il comune normalmente lavora a scale di 1.000 1.500 2.000 5.000 e loro dicono guardi che esiste il 50.000 forse si usate quello meglio anche perché poi vi ho fatto vedere che c'è una bella differenza quindi sulla parte dell'informazione aggiungo anche che gli enti comunali su questo secondo me ANCI avrebbe un interesse non indifferente perché comunque l'associazione dei comuni a istruire perché oggettivamente i comuni i tenici sono meno che zero in questo momento qualche comune un po' più grande forse ma i comuni più grandi se guardiamo Torino di un suolo da utilizzare più poco ovviamente tutte le informazioni biologiche non sono solo diciamo quello che è estremamente dei suoli ma vabbè questa è la carta dei suoli la carta del drenaggio la carta della capacità d'uso di etrosità poi c'è quella della fertilità biologica e ad esempio un'altra carta è quella dell'eresione con il metodo ruso questa non l'abbiamo fatta queste sono sul geoportale o no? sì sì queste sì tutto sul geoportale adesso faccio vedere c'è anche questa che è la carta che vediamo domani la carta del carbonio organico quindi ogni volta il grazie di perci 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 perché se no non c'è ah scusa non allora ogni volta che dei dati analitici nuovi entrano nel sistema automaticamente vengono aggiornate le mappe sì assolutamente ovviamente all'interno sì c'è il tempo zero adesso ve lo faccio vedere quello che non viene fatto è quello che viene esposto sul geoportale perché quelli sono come dice fotografie semestrali ah quello sì però noi poi volendo si possono aggiornare cioè nel momento in cui viene chiesto un dato aggiornato noi possiamo darlo in tempo zero e tra l'altro passando un dato da Postgres a Postgres perché la regione lavora con Postgres quindi non c'è neanche più il passaggio lo scena immagino che questo lato è assegnato il tesoro viene in qualche modo viene in qualche modo battezzato viene automatico lo metto dentro e capito no quindi no quindi comunque io ce lo faccio vedere c'è un pedologo che assegna i valori cioè in base all'analisi in base ai campionamenti alle tribellate il dato di unità del suolo è agganciato alla fase dominante nel momento in cui cambia un elemento della fase dominante se la fase dominante ha come dire la classe di capacità d'uso 3 prima era 2 io vedo 3 adesso una volta non era così dovevo fare girare tutta la banca dati esportare i dati analitici associati al dato geografico adesso non è più così il dato geografico è associato in automatico questo sì al dato analitico ogni cambio di dato analitico che non è automatico ma c'è qualcuno che lo deve come dire confermare o perlomeno imputare ogni cambio di dato analitico si trasforma se esiste un corrispettivo dato tematico carta della capacità d'uso del drenaggio della pietrosità e via discorrendo si trasforma in una carta tematica giornata tempo zero ma come tu scendi come a questo punto sei tu che comandi cioè sei tu che decidi il nuovo dato analitico deve entrare nel sistema lo decide il pedologo sì oh beh sì quindi puoi anche decidere che quel dato non è attendibile ma vuole aggiornarsi esatto adesso lo faccio vedere scusa sono quei dati lì che sono quelli che ci ha fatto no adesso ve li faccio vedere c'è chi ricerca di pietro e verso c'è una fase esatto una fase di pietro così esatto ve lo faccio vedere esatto le statistiche di pietro esatto le statistiche di pietro possono modificare o no come possono modificare cioè la fase di pietro è fatta da N che c'hanno e stavo detto quando di denarare si nuova entra dentro quella faccia entra nella statistica è questo sì ma che lui decide se fa l'entraio o no magari che vengono fatte liberare e lui mettono ma non sono anche i primi o etero e c'è ma siccome è la persona è quello il vantaggio si darebbe una zappa su diere è quello la forza di tutto il sistema è che voi avete creato dietro un geodatabase collegato sempre con gli stessi software collegandolo anche a quello della regione Piemonte cioè con l'ultimo è tutto fa parte è tutto dello stesso sistema finisco solo questo l'unico database open source per i dati analisi grafici una volta erano separati tra l'altro il database open source è lo stesso che gli utenti possono avere identico non cambia ovviamente è limitata la visualizzazione produttivamente generico rispetto a quello regionale o IPLA ma è lo stesso i dati sono quelli non c'è due dati diversi c'è un'integrazione molto facile anche con dati esterni perché ad esempio noi integriamo tutti i dati biografici di uso del suolo foreste che sono in parte interna in parte esterna sempre parlandosi tra i database se questo qualche problema c'è ma lo stiamo risolvendo e ovviamente quello che dicevamo creazione di modelli e flussi per l'automazione di alcuni processi faccio un esempio se io domani volessi sapere ogni unità quanti punti è dentro basta che vado a vedermi una tabella perché lui va a leggersi tramite le regole su interno i postgis si fa i calcoli da solo dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare uno intanto da quello che dicevamo integrare il rilievo digitale in campo abbiamo incominciato ad usare qfield che però non funziona tanto bene perché o meglio non è che non funziona bene è molto macchinoso per il tipo di rilievo che facciamo allora siamo riusciti con non poca difficoltà a portare postgres su un tablet c'è una versione del database postgres su un tablet con un tasto si possono sincronizzare il dato perché l'idea è che li devono lavorare in remoto cioè andiamo in campo non c'è campo che faccio allora noi siamo riusciti ripeto con qualche difficoltà facendo anche intervenire perché usiamo i software open source perché abbiamo fatto intervenire la comunità mondiale sul programma sulla parte di programmazione all'interno di android di postgres perché non funzionava una cosa siamo riusciti a sistemarla quindi abbiamo integrato postgres quindi il database che voi vedete online è integrato nei nostri tablet si lavora offline e con un tasto si sincronizzano e c'è la regola per cui se il dato già esiste online non viene integrato ma deve essere al limite integrato a mano perché ci sono magari delle modifiche oppure e poi tutti i dati che sono online vengono reintegrati sul tablet vogliamo lavorare su un editing multiutente supervisionato cioè vuol dire io faccio delle modifiche questo potrebbe essere utile a livello nazionale io faccio le modifiche su un dato ma quel dato deve essere validato a livello superiore perché potrei modificare ad esempio nel caso di zone di confine tra regioni o tra province due modifiche nello stesso dato c'è qualcuno che dovrà decidere quale il versioning quello che dicevo prima cioè tenere la storia di tutte le date di tutte le modifiche quindi con una tabella separata nel momento in cui faccio una modifica il dato vecchio viene memorizzato a parte e io posso in base a delle regole di data o di operatore questo sta dicendo Federico è importante perché ad esempio sul discorso del fotovoltaico sul discorso del fotovoltaico si possono creare delle contestazioni da parte degli utenti perché c'è una normativa regionale che dice se posso non posso fare il fotovoltaico a seconda della capacità d'uso del suolo quindi queste valutazioni che facciamo noi non è che le facciamo così da pedologi teorici ma perché c'è poi un'utenza che deve applicarle o meno eccetera e quindi sapere qual era la capacità d'uso precedente serve perché c'è un contenzioso e in certi casi anche il dato potrebbe essere variato perché il laboratorio si è sbagliato è uscito un dato strano è stata fatta una correzione qualcuno chiede una revisione del dato e quindi si ritorna anche alla versione vecchia perché non è detto sempre che la versione nuova sia quella giusta uno in buona fede cambia la capacità d'uso poi c'è una contestazione vai a vedere e dice ah no ma il laboratorio è sbagliato come era la versione vecchia la versione vecchia era questa quindi questo diciamo non è una cosa teorica ma è della pratica perché abbiamo da fare fronte diciamo un regolamento regionale nello specifico ok ho fatto qualcosa di storico no no a posto quindi il versioning permetterebbe quello di tenerla con l'istoria dal tempo zero che si deciderà quando lo metteremo a punto in poi di portare sempre a tornare indietro adesso viene fatto manualmente cioè viene fatta una copia del database a una certa data e poi modificato però non c'è un versioning vero quindi non ci sono ancora quella possibilità e poi l'ultimo è la funzione di risulti per il mantenimento e l'aggiornamento dei dati quindi anche lì l'operatore non deve fare niente c'è un flusso di lavoro che può permettere di aggiornare il dato di andare a fare delle verifiche di congruità topologica e via discorre questo è infatti c'era una domanda di Maria allora c'era prima la slide ci sono io che mi occupo di cartografia GIS in parte della banca e anche nel tablet una collega che ha fatto diciamo una parte di banca dati e sta facendo il tablet come è pedologi 3 sono proprio pedologici di campo cartografi 2 e di cui uno sono io quindi no neanche infatti il vantaggio di tutto quel sistema è che ci permette di lavorare sempre meno dal punto di vista informatico se non all'inizio con una allora c'è stato un investimento allora l'investimento è stato fatto soprattutto sul passaggio dal vecchio sistema FoxPro al database nuovo perché è stato un cambiamento epocale perché se è un database che non era ESID quindi non era un database relazionale eccetera non era Postgres non era Postgres allora il passaggio più semplice è stato dei dati da diciamo geodatabase access a geodatabase postgres quello è stato abbastanza semplice se non dover correggere delle nuove topologici perché access facendo sul dato geografico sì però devo dire che era già abbastanza pulito non era così messo male era soprattutto c'è un altro problema che è di non secondo piano è sui limiti regionali perché non esiste se non oggi l'ISTAT che dice qual è il confine regionale giusto e cambia anche un po' questo è uno di quei flussi di lavoro quei flussi di lavoro dovrebbero permettere che nel momento in cui cambia il limite regionale mi cambia il limite del suolo con delle regole non indifferenti perché se si allarga io devo capire se quel suolo che vado a riempire o che devo riempire è lo stesso tipo o no se si ritrae invece posso tagliarlo e se non tagliare però se si allarga è un problema vi faccio solo vedere questo allora questo è il dato dei suoli 50 che lo stesso dato io posso averlo tematizzato sul tipo di suolo adesso con calma arriva ok ci vuole un po' intanto Maria ti fa una domanda sì allora io volevo capire proprio tecnicamente siccome ho capito che voi come gruppo aggiornate anche dati quindi andate in campo a fare dei levamenti quindi diverse cose uno diciamo con che criterio per quale richiesta con che frequenza insomma in che maniera si svolge questo aggiornamento e l'altra questione non ho ben capito il regame fra le due presentazioni sono due interessantissime una viene più se ho capito bene da analisi che fanno gli agricoltori in relazione alle politiche eccetera ma il laboratorio è lo stesso sono due nel senso poi queste rilevamenti fatti nell'ambito appunto dagli agricoltori possono entrare in banca dati sì no ecco va bene io io do la parola rispondo io per quanto riguarda l'ultima la tua richiesta ah ok va bene la carta dei suoli che avete disponibile cioè questa è la stessa carta dei suoli che c'è in questo momento sul geoportale regionale prendo questo che è l'unità 1108 ok questa è l'unità 1108 quindi sono la stessa questo link che vedete c'è la fase che è la fase SFL1 il link esterno che apre punta un nostro database che è lo stesso è il database che i pedologi usano per fare gli aggiornamenti che ovviamente è limitato in questa fase nella visualizzazione però è lo stesso ok e qui ho la descrizione della fase con tanto di foto questo tra l'altro è una cosa che mi permette di generare in automatico un pdf questo è visibile a tutti questo è visibile a tutti e le cose visibili a tutti sono queste quindi io posso vedere unità cartografiche e le fasi di suolo al 50.000 al 250.000 unità dove lo fai sotto gruppi assolutamente sì non tutti non tutti le unità cartografiche del profilo di FNA esatto poi siccome ovviamente c'è dei problemi anche di capire cosa sono i codici c'è anche tutta la leggenda dei codici questa è la parte pubblica ma la banca dati che sta alla base di questo è unica è esattamente quello che vedete qua è esattamente quello che c'è qua e però qua è ovviamente molto più spasso per farvi vedere la differenza adesso io ho fatto i suoli vabbè so che l'SFL1 vado a vedere la capacità d'uso la capacità d'uso qua mi dice che è classe 3 ok vado a vedere la 1108 vediamo che fase A ha tre fasi e questa è la predominante so che la predominante me la vado a vedere è l'SFL1 vado nell'SFL1 a questo punto dove è fasi fasi vado nell'SFL1 la SFL1 la modifico no no faccio veramente quella che può tornare da prima allora la carta da capacità d'uso in rigua terza classe lo metto in ottava questo lo fa il pedologo l'analizio allora vedete che questa qua è verde nel momento in cui anche se ho esposto la visualizzazione che giorno ecco lasciamo ok perché i due dati adesso si parlano prima questa roba qua uno faceva modifica risportava il dato lo rimetto come prima prima che mi ammazzi il corrente ecco un'altra cosa ho messo terza classe di qua almeno un'alerta vado qua sono online sono online sono su quello che vedono tutti speriamo che nessuno stesse guardando se no si ritrova abbiamo scherzato aggiorno perché il database unico non è più diviso e non è anche questo è una cosa di non secondo piano quando uno va a lavorare perché chiaramente questo noi abbiamo avuto più di una contestazione si va a partire però problemi con chi va a vedere la carta di capacità d'uso che vede delle capacità d'uso che magari non corrispondono a quelle di dieci anni fa perché poi il problema scusa poi lo storico lo archiviato io ce l'ho tutto archiviato su copie di database di tabelle del database ah si lo storico della cartografia si dell'analitico al momento non ancora ed è quello che dicevo del versioning io ho interrotto prima qualcuno molto male direte caramente ah si questo è finito facciamo un po' la presentazione di quello che abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni diciamo grazie oggi lo faccio io però c'è collega Marta Lò che non è più collega è collegato è collegato e lo solleviamo ci sono altri colleghi borsiste Samantha Lorena e altre persone passate c'è un lavoro dietro di squadra che non è da sottovalutare quando uno fa queste cose allora per rispondere a Maria dunque c'erano due ordini di domande allora il discorso degli aggiornamenti poi Igor mi confermi vuoi integrare di solito allora come abbiamo fatto l'esempio c'è una normativa regionale che è quella sul fotovoltaico per cui le autorizzazioni vengono date in funzione della capacità d'uso e altri diciamo vincoli quindi uno dei vincoli è quello della capacità d'uso quindi ovviamente c'è una istruttoria di cui che è di responsabilità della regione che però incarica Ipla di verificare questa la legittimità della richiesta perché nella richiesta c'è da approfondire i dati pedologici se è il caso contestarli perché ovviamente la scala può essere diversa ci sono possono esserci delle approssimazioni quindi è legittimo che qualcuno dica io contesto il dato dell'Ipla non è una terza classe ma una quarta viceversa a questo punto noi siamo chiamati da regione ufficialmente a fare una verifica e quindi andiamo insieme ai professionisti a verificare sul campo qual è la situazione e quindi poi di qui derivano tutta una serie di approfondimenti analitici per i quali poi l'Ipla risponde sì o no è giusta la declassazione oppure e a questo punto ovviamente dobbiamo fare gli aggiornamenti a seguito dell'istruttore regionale nello specifico per la problematica del fotovoltaico poi ci sono altri aggiornamenti che sono strettamente collegati con le nostre indagini pedologiche perché spesso succede che noi facciamo dei lotti confinanti e quindi con delle aree salandiviane e quindi cioè fatte adesso fatte parecchi anni fa oh carino ma ne ho già beccati tanti e quindi cosa succede succede poi a parte che ci sono dei suoli che cambiano come contenuti di sostanza organica e quindi mollisuoli che non sono più mollisuoli e storie varie però diciamo così che oltre che magari fare delle modifiche perché hai qualche approfondimento da fare legato all'otti confinanti fatti anche in periodi successivi cioè 2012 fai una zona l'anno dopo ne fai un'altra ma è la possibilità di fare un profilo in più e quindi fai degli aggiornamenti e dice guarda abbiamo ancora questa informazione e cambia l'informazione legata proprio a un progressivo allargamento dell'area geografica indagata e poi gli aggiornamenti legati ai rilevamenti vecchi per i quali ci sono certe fasi che vengono mutuate noi ne abbiamo elaborate quante sono le fasi attuali 980 980 fasi sul territorio essenzialmente di pianura e di collina però cerchiamo di mutuare delle fasi già descritte in precedenza e quindi anche in questi casi si rende necessario magari fare degli aggiornamenti una fase vecchia teniamo il nome teniamo un certo tipo di descrizione però il profilo caposaldo è uno nuovo e quindi in questi casi di nuovo si fa l'aggiornamento diciamo che è in progress ho risposto a tutto ah sì il loro database è un altro nel senso che le nostre analisi sono a scopo strettamente come è stato detto da Simona strettamente pedologiche quindi servono per la caratterizzazione e la classificazione del suolo per le cartografie poi se vogliamo essere precisi in realtà noi siccome chiediamo l'autorizzazione per fare lo scavo soprattutto in pianura e in collina in aree agricole chiediamo l'autorizzazione agli agricoltori e in cambio noi diamo le analisi agli agricoltori c'è un doubt des tale per cui noi facciamo l'analisi della fertilità del suolo per l'agricoltore in modo del tutto anonimo ovviamente però facciamo l'NPK tanto per intenderci quindi diciamo che i nostri database viaggiano separatamente però in alcuni casi è successo che ci confrontiamo perché a noi ci vengono dei dubbi su alcuni numeri lei potrebbe cioè il loro database ha delle informazioni in più su essenzialmente poi i dati che possono variare sono il carbonio sono quelli legati alla fertilità proprio collegata con la gestione agricola perché i dati di base che poi le tessiture anche spesso non le hanno le fanno ma qualche volta quindi i dati principali del loro database sono legati alla fertilità quindi salvo casi eccezionali che sono legati per esempio a delle anomalie del pH se tu prendi 50 punti di una certa area dell'agrochimico dovrebbero essere confermati dai dati nostri che saranno 4-5 capisaldi e il pH corrisponde se ci sono delle anomalie si dovrebbero andare a vedere adesso noi non abbiamo avuto non credo che abbiamo tempo di andare a fare come? vieni qua vieni qua sì vieni vieni qui finisco solo poi ti passo là quindi si possono fare dei confronti e vedere e vedere su alcuni parametri se ci sono delle anomalie o meno ripeto invece per quanto riguarda gli aspetti della fertilità e se uno vuole andarli a vedere questi li va a vedere sul loro su loro su loro database quindi azoto fosforo potassio sono dei dati importanti per quanto riguarda la parte agronomica i dati invece nostri sono i dati pedologici è chiaro che ci dovrebbero essere delle conferme reciproche tra i dati loro e i dati nostri però non è che abbiamo fatto una sistematica confronto perché non c'è sistematica dal nostro punto di vista nel senso sono proprio analisi raccolte da richieste di utenti anche periccole e non si sono dati puntuali comunque non so da un punto di una rete di un seraggio comunque sono proprio analisi puntuali relativi agli affezamenti in cui gli utenti erano interessati ad avere appunto il MPK per fare il piano di concentrazione proprio solo a scopo non sì solo in certi casi quando lavoriamo per conto dell'università per dire di qualche ente di ricerca dove l'affezamento interessato viene monitorato per più anni magari c'è un campo per esempio dove c'è l'azienda agraria dell'università di Torina la facoltà a Carmagnola lì ci sono prove di poliennali di lunga durata che hanno valenza anche non solo per l'Italia ma in generale sulla fertilità l'evoluzione della sostanza organica dietro al porto di retrizzate e allora lì certo si ripetono le annabili sulle stesse attenzioni anche per tanti anni anche su singole parcerie però nella nostra validazione i campi sperimentali non li il protocollo di validazione non li validiamo nel senso non li mostriamo perché essendo sempre il stesso campo con magari trattamenti diversi esula un po' dal anche dalla finalità che vogliamo dare a questo strumento insomma diciamo che non è non è realistico sulla presenza in quel apprezzamento lì di quei valori perché sono alterati magari da prove di campo quindi aggiunte e aggiunte di altri fertilizzanti quindi nel nostro protocollo di validazione normalmente i campi sperimentali vengono il protocollo di validazione è stato messo a punto nel 2000 dal collega Aurelio che ha iniziato a lavorare allora per il laboratorio agroalimentario teniamo presente che le profondità che accennavamo prima in genere sono 0,30 basta per le colpilazioni erbacce quando invece l'agricoltore ha le coltivazioni arboree in corso gli chiediamo i due approfondimenti 0,30 a 0,60 le analisi che le aziende agricole fanno per il PSR quindi per accedere ai contributi per produzione integrata o altri per produzione integrata durano come validità 5 anni i disciplinari di produzione precisano però che i parametri fissi quindi creonometria PH inizialmente CSC mi sembra e poco altro non vanno rifatti dopo 5 anni e invece i parametri variabili devono essere rifatti dopo 5 anni tra i parametri di fertilità possono richiederci gli agricoltori anche i microelementi quando ci sono delle situazioni che in genere hanno un sospetto di carenze di di duranamente eccessi di solidificare in qualche microelemente allora vengono aggiunti all'analisi tipo e al remometria quindi chi partecipa a interventi volontari come la produzione integrata è obbligato a fare non solo l'analisi tipo ma anche la remometria il panorama completo del terreno che ha un piano di concimazione sensato grazie grazie a aggiungere una cosa visto la tenora delle domande cioè in effetti in Piemonte non abbiamo grande in che caso che ci stava a grattarlo no di alcune cioè sperimentazioni dell'università ecco quindi lì ci sono dei dati nel tempo di evoluzione però con interventi agronomici sperimentali ma non esiste Rotonset tanto per intenderci in Piemonte non ce l'abbiamo in Lombardia so che sono state fatte dei progetti ad hoc dove si è vista meglio l'evoluzione della sostanza organica nel suolo ma anche lì magari sono rispetti diciamo di gestioni diverse invece il vedere nel tempo l'evoluzione del carbonio organico noi abbiamo provato abbiamo dei dati per quanto riguarda l'ecoltura albore diciamo la servicoltura perché c'era la 2080 quindi lì abbiamo avuto dei progetti regionali che ci hanno portati a fare delle misure costanti nel tempo e quelle sono costanti nel tempo diciamo senza interventi approprii di nessun tipo perché c'era l'impianto piopeti e altre sculture quindi su quel quindi ci sono dei dati di ma domani ne parlo molto diciamo perché non c'è molto tempo domani per fare diciamo interventi di dettaglio però parlerò delle misure di dati di assurdo carbonico voglio sapere se c'è una domanda di cosa che è accettata analisi indipendenti degli agricoltori sì che non sarà un laboratorio anzi di non sarà l'azienda agricole abbiamo tariffe agevolate per l'azienda agricole ma in realtà anche privati e appunto enti di ricerca qualsiasi non so se intendesse se vi danno delle analisi posso darvi delle analisi fatte da altri ah esatto i metodi devono essere quelli ufficiali grazie voglio sapere viste che siete così bravi ad aggiornare la banca dati se vi ponete il problema di decidere magari di approfondire in una determinata zona che è stata affetta o da processi erosivi importanti fenomeni di alluvionamento che possono in un certo modo modificare il suono allora intanto diciamo Ipla non decide cosa fare Ipla fa quello che gli dice la regione più volte quindi siamo figli della regione più volte quindi la regione ci dà gli incanti può accadere quello che dici quello che tu dici può accadere però diciamo accade se la regione decide di fare quel approfondimento lì perché gli serve per tanto motivo per rispondere anche a un'altra domanda come procedere nel momento funziona che tanto per cominciare a differenza di altre regioni lo facciamo tutto noi quindi non ci sono lotti da agganciare è un rilevamento che ha 40 anni di storia che però ha una continuità totale metodologica pur nei cambiamenti per dire quest'anno abbiamo fatto il primo lotto di montagna che è la valle di Susa che è questo pezzettino qua quello lì che consegneremo a fine dicembre adesso qua lo vedete nella nostra tra pochi giorni arriverà nelle mani della regione e si aggancia alla carta dei suoli pregressa il prossimo anno andremo nella valle Pellici valle Sanguona che è qui sotto la regione ci ha detto lì non è stata la scelta nostra noi abbiamo convinto la regione a fare la carta dei suoli in reale pede montane fino a mille metri e dopo di che si è concordata con la regione e cominciamo dalla valle di Susa e poi c'è un percorso a divenire ogni anno viene approvato un progetto in base agli stanziamenti che ci sono decidiamo la dimensione che riusciamo a coprire con quel progetto e ci agganciamo questo per allargare l'allevamento che in tutta la carta che vedete lì c'è che il 50.000 c'è tutta la pianura tutta la collina tutta le aree moreniche e la valle di Susa poi il piano si agganceranno tutte le varie valli fino a mille metri poi ci sono altri progetti che possono innescarsi se la regione decide che è necessario un qualche approfondimento e allora ne abbiamo in specifico il fine certo l'alluvione Rosario Rosario sì non io voglio tornare un attimo se non mi erano male i colleghi del Piemonte vorrei tornare alla presentazione di Maria perché volevo fare due domande due considerazioni io sono rimasto un po' circa i criteri soglia della soglia che altro sono rimasto un po' stupito sull'aspetto idrologico l'aspetto idrologico c'è intanto la sola avc e a livello di bacino il che è francamente inquietante perché nel senso come si faccia a misurare a livello di bacino poi devi comunque conoscere l'adesore quindi tanto parere il primo secondo c'è anche altri parametri importanti che sono infiltrazioni questo la poi c'è un altro criterio generale quindi quello è sicuramente un aspetto da poter modificare a quella maniera lì non ha senso ricordo che l'idrologia del suolo è la base di tutto perché tutti i modelli girano i modelli di un nome del carbonio girano su base idrologica cioè temperatura umidità moisture quindi se non c'è il dimensionamento di certi processi idrologici fatto bene anche il carbonio l'azoso tutta una serie di non parliamo degli inquinanti la salività cioè gira tutto sull'acqua nel suolo si muove tutto l'acqua senza l'acqua si muove niente primo punto e non succede niente perché anche il metabolismo del carbonio sta tutto fermo questo quindi mi meraviglio che la questione acqua nel discorso di red law sia stata un pochino trattata in maniera troppo marginale le curve di ritenzione tra l'altro la compattazione interferisce con lo stoccaggio dell'acqua quindi anche invece di fare la misura compattazione cioè potresti anche ricavarla e vengo all'ultimo punto alcuni alcuni meccanismi sono interagenti per esempio l'erosione benissimo a parte c'è una modellistica determinata ora abbiamo visto in scale per esempio anche panacons usa a livello europeo è un modello è meno male in parte c'è il discorso erosione sedimentazione quindi si potrebbe in il file proporre anche dei modelli diversi dalla rossa no ci so c'è l'esperienza primo secondo il carbone organico su base biofimica il turno poi c'è la terza aspetto il carbone organico che si mette per l'erosione quello no ci sono degli ambienti collinari come voi avete anche dove secondo me e noi abbiamo delle misure toscana che ci dicono che l'aspetto di perdita meccanica è 10 volte l'organizzazione quindi cercare di mettere insieme alle due cose è importante perché per esempio nella modellistica è stato fatto però questa cosa non viene considerata se viene considerata anche nella pacca tutti liberamente costo l'erosione a sé e il coso a sé cioè sono due due aspetti che vengono considerati ultimo il carbone organico come mi insegna roberta è esperta il discorso del top totale è un po riduttivo cioè il carbone organico totale è l'unico aggregatore c'è anche bisogna vedere in che forme sta in che stato di aggregazione sta quanto è permanente a seconda del tipo di carbonio ai di tipo di humus quanto è permanente nel tempo a seconda quando te dici mi ha aumentato certi tipi di ambienti per il carbonio risotto ci sta che a seconda dei tipi di cultura e di pedoni in quell'ambiente sia più permanente l'humus dura 50 anni in un altro ambiente dopo tre anni l'aspetto di quanto il carbonio permane nel suolo dipende dal materiale di input di carbonio e quanto è ricco o meno di componenti strutturali e dall'arginio perché poi alla fine viene ma anche l'argile è un discorso un tanto attivo perché l'argile è un conto solo se l'argile è attiva c'hai le cloriti le vernicolite e le smettiti è un conto se c'è la cavodinite che non ha un'attività solo una a uno bassissima attività è un altro conto cioè capito ma comunque questa cosa di usare un semplice rapporto tra l'argilla e il carbonio diciamo che sovverte tutta la letteratura che fino ad ora ha dimostrato che questi due parametri da soli non sono in grado di spiegare io faccio sempre l'esempio che faccio sempre l'esempio di correlazione è come se te ti fai l'analisi del sangue e guardi per dire livello di globo delle osse totale poi fatti invece l'eritocidemia fatti le transaminasi tutte fatti la tiroide se ti fai un orecco più dettagliato scopri delle osse e magari se c'è il dato generale non puoi scoprire quindi voglio dire se si fa un discorso sul meccanismo di cremetto del carbone organico così come si va in dettaglio con la microbiologia e la diversità funzionale anche sul carbone organico il minimo non è un frazionamento sapere che componenti c'era per carità perché poi quando vai dentro gli esperti sono tantissimi perché effettivamente anche anche il cimic per esempio il cimic che io non l'ho visto il carbone organico della biomassa di buono ok, davvero, davvero non aggiungiamo cose che cosa fanno che parliamo domani eh, ma è fatti, di carbone ora ci sono le tecniche nuove che fa formazione anche il nostro figlio con l'amplificazione del DNA lo fanno con la cota del DNA del carbone organico hanno messo a punto, invece con la fumigazione che era come andato cioè è lunga la fumigazione è complessa si tocca a farlo 25 giorni io volevo risponderti sulla questione quella della WC perché è trattato due temi l'acqua, erosione allora sul discorso della WC che poi in realtà nella storia del turono mi è chiamata WC ma water content è un po' diverso perché la WC è in relazione alla pianta e lì si parla di water content e poi se la vai a leggere di scritta si vede da qualcuno che di solo non sa niente perché è coi piedi noi ci abbiamo fatto il deliverable 65 analizzando la monitoring law che noi la chiamiamo il telon ma è cambiato nome si chiama monitoring law ci abbiamo messo giorni per capire cosa volessero dire lì chi c'era che ci partecipava la Chiara mi pare perché non si capiva cosa che volevano dire ma in realtà leggendo e rileggendo abbiamo capito che l'obiettivo non era tanto la questione del contenuto di acqua quindi agronomico per le piante quanto un discorso di come l'acqua si comporta cioè il bacino si comporta al momento in cui arrivano le piogge se riesce a trattenere l'acqua e evitare inondazioni oppure no cioè l'obiettivo nell'assore il monitor in law si 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 no ma era per spiegarti per spiegarti quello che noi abbiamo capito di quell'indicatore che quell'indicatore nell'assore il monitor in law ha la finalità di un come dire un'analisi di come si comporta il bacino in relazione alla capacità di trattenuta di acqua perché quello che interessa in questo momento è la capacità protettiva rispetto alle inondazioni di fatto detto in parole povere poi se questi suoli riescono a tenere acqua per le colture in questo momento nella sua monitor in law non ne frega nulla ok quindi dopo di che in questo senso torna più logico pensare che uno dovrebbe ovviamente considerare anche cosa succede all'interno del bacino nei vari appezzamenti ma avere anche una visione appunto di bacino come tipo il monitoraggio dopodiché e torno a quello che dici te è vero che secondo me la questione del monitoraggio del sistema idrico del suolo è legata anche alla questione del monitoraggio e dell'erosione le due cose vanno molto a braccetto ma non c'è scritto non c'è scritto non c'è scritto non c'è scritto quali punti diciamo alla funzione delle inondazioni è importante che le ricevesse la velocità di infrastruzione al di là della quante atto sale che riesce a trattenere con che velocità il suolo riesce a assorbire le acque quindi assolutamente anche noi abbiamo detto no ci sarebbe da valutare anche questi parametri i parametri sono tutti i caratteristici della curva cioè il capace di saturazione il capace di contenuto d'acqua la saturazione la capacità di acqua al punto d'accassimento velocità di infiltrazione e conducibilità idrale comunque se Rosario tu mi dici che tu sei come autore e devi il paragrafo quindi se ci lo leggi passo quelle cose mentre fai mille cose ti dico il pomeriggio alle 5 per domani e l'altro c'è da scrivere questo paragrafo correggilo cioè capito se quelle cose ti pigliano la spropista perché qui ci sono decisioni mondiali report l'importanza fenomenale infatti oggi vedo cioè capito nella ricerca nella ricerca attenzione nella ricerca anche le leggi non ci vediamo la gestione dei dati è ovviamente fatta solo su dati vettoriali o analitici molte analisi che sono state fatte comprore l'erosione con il metodo Russell e vengono fatte invece con dati raster che non sono sono integrabili in POSG con non poche difficoltà ecco questa è interessante noi siamo io sono molto favorevole in parte per alcune mosse al dato continuo raster perché ti consente di fare una modellistica spaziale noi l'abbiamo fatta ma in realtà con digitazione mapping potrebbero addirittura dai profili nascere delle spazializzazioni delle fasi eh metodosiche in maniera massima non che sono da politico di trasformare a gas ma fatti nascere direttamente raster spazializzati direttamente io sulla spazializzazione dei dati puntuali ho sempre qualche dubbio specialmente eh no ma anche perché ad esempio la spazializzazione non tiene conto delle morfologie no no per esempio si? c'è? per esempio la digitazione mapping di robot 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 le variabili categoriali sono due parematiglia cioè le biologie e usosio fine tutto il resto il polfometrico c'è un elenco polfometrico di robot da qui fino a Torino non si può dire assiena da qui fino a da qui fino a da qui fino a allora il dato il dato massa sicuramente presenta una serie di vantaggi che è la velocità di calcolo e la quantità di dati che si possono utilizzare si possono simulare come abbiamo fatto noi il dato raster in vettoriale usando punti semplicemente il punto quindi io dico il dato raster utilizzando sempre le fasi non il singolo valore si 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 no 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 poi il singolo valore lo puoi estrarre uno dice questo pixel ha la fase di associare allora si nel senso che noi abbiamo simulato quella roba su esempio il dato che abbiamo fatto per il carbonio con Ungaro cioè abbiamo trasformato il dato vettoriale e sono quei famosi due milioni e mezzo di punti se prese 100 metri o 25 milioni di punti o 62 milioni e mezzo di punti se prese 20 metri facendo semplicemente il punto centrale del pixel che sono già un dato di un certo livello perché poi a ogni punto io posso associare tutte le informazioni con il raster è molto più veloce il raster però è molto più difficile immagazzinarlo e gestirlo su un database postgres e poi le analisi non le posso fare semplicemente e allora utilizziamo si può utilizzare R si può utilizzare anche la programmazione in QGIS in Python per fare tutte le elaborazioni di grass io però spero sfrugare lui alla fine su questa storia di 40 mila punti in teoria però tornando al discorso che avete fatto prima sul fatto di mettere i punti dell'analisi che automaticamente si aggiunna se è assegnato alla fase in teoria in teoria te potresti un set selezionato delle soli 40 mila che c'ha appunto una serie di informazioni tipo vestiture che magari sono mille 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 cento trecento trecento insomma questi sono di qualità sono di qualità tale che mi consentono di estrapolare la parte del zampo filo per fare come dice io se la regione si assegna sto scrivendo ma sì ma sì ma sì però siccome alla regione nessuno ve lo suggerisce suggeriamo le onore potresti vedere una 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 di semplice se gioco il miglioramento del sistema interdemente bisogna fare un controllo e andare a vedere dove ci sono queste delle le 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 la nostra cassa è il pH, il sistematismo che abbiamo sul tuo portale è quello dei pallini che erano robbi, è il pH, se lo ricordi sulla parte del sole 1,50 mila pH, non coincide perfettamente, però è molto evidente la cosiddetta, e poi comunque loro che indicano i profili di suolo in base alla percentuale prevalente, se uno ha un'analisi che è diversa dalla percentuale prevalente può sempre andare a verificare che sia tra le due sottosporti, ma se in tutto caso ci sono delle previsioni di legge o dei contenuti della PAC che dice la parcella X, in quella parcella c'è il dato suolo che dice una cosa e il dato dell'analisi che magari per il carbone dice Marta, chi vince? la domanda è stata verificata la domanda è stata verificata vince il dato cartografico eh si che si incrocia con il foglio di acqua allora, bisogna istruire la parola c'è un problema di scap no, e poi per il carbone c'è un problema di uso dominante collegato con la fase dominante, perché noi lo sappiamo perché la carta, queste carte dell'IBF, cioè dell'indice di effettività biologica quello di Anna Medvedevchi, dove ci sono tutti i parametri dinamica della sostanza organica che diceva Rosario è fatta ovviamente su un incrocio diciamo tra fase dominante informazione fra uso prevalente e fase dominante e dominante cartografico e sono da fare specializzare il dato quindi lì c'è un dibattito fra me e Federico sulla questione perché io da te l'oro ho detto che fa prevalere il dato che arriva da eeeh però è ovvio che c'è gli altri dati e poi no, ma sicuramente il carbone unitario è quello il problema è il problema di delle unità delineazioni un'altra cosa che noi non abbiamo ancora fatto avremmo iniziato a farla su 250mila credo proprio sul carbonio si si è quella di un'unità che è composta da più delineazioni non è detto che tutta quell'unità abbia la stessa capacità di stock o incremento potenziale di carbonio organico perché su quell'unità ci possono insistere suori diversi a seconda della delineazione del poligono dov'è quindi ad esempio su 50mila questo non abbiamo ancora fatto per cui quello che si vede qua quello che si vedeva prima che sono questa che è un'unica unità no, cioè sono la stessa unità divisa in 5 6 pezzi, 7, 8, 10 non è detto che quei 7, 8, 10 ci sia lo stesso suolo perché purtroppo c'è un intervento antropico che se ne stra... in certi casi no perché ovviamente determinati suoli sono più adatti a fare determinate colture però in molti casi sullo stesso unità ci possono essere dal bosco al seminativo quindi su quello vale la regola di dividere quell'unità che ha determinate caratteristiche di suolo quindi con una capacità intrinseca del suolo di carbon stock e di incremento potenziale che viene differenziata in base all'uso quindi questo non è l'analisi sui 250 lo siamo riusciti a farlo perché sono meno unità, meno delineazioni sul 50 mila un po' più bisogna rifarlo ovviamente con dei dati poi quale uso usare? eh vabbè è bellissimo perché anche lì il dato c'è un aggiornamento in Regione Piemonte che però siamo in fase di discussione ad esempio adesso in tutta Italia fortunatamente ci saranno i nuovi piani forestali di diritto territoriale che dovrebbero essere uguali per tutti che prevedono una realizzazione dell'uso del suolo a fini agroforestali noi abbiamo bypassato fini agroforestali si può bypassare non pensando ad aggiornare il dato a retrografia quando l'uso del suolo si prende si monitora da sotellite ricostruendosi in bella bacca dati nel Piemonte delle film spettrali delle cotture annuali la risposta a spettrali è un film spettrali a terra e poi con il coraggio dell'uso del suolo dei tipi di cotture a quel punto lo fa 30 mesi si però il problema è che però a secondo del modello che si usa e lo vediamo domani categorie diverse di colture annuali hanno capacità di stock di carbonio diverso soprattutto perché ad esempio in un modello che noi abbiamo usato che è quello Invest di Stanford utilizza la necromassa e la necromassa già la nuova PAC dice un'altra roba però la necromassa in un bosco una cosa in un mais in un'altra in una risaia una terza e viene scorrendo quindi varia anche quello allora o si fa tappeto o perlomeno a livello italiano si scelgono i 10 usi del suolo i 20 usi del suolo perché ad esempio noi quando abbiamo applicato alcuni modelli vignetti c'è anche l'Emilia Romagna vignetti e noccioletti sono stati completamente dimenticati o meglio trattati come colture permanenti ma sono colture permanenti molto atipiche rispetto alle colture permanenti come i kiwi i meli che ci sono in Val d'Aosta in Trentina in Pimonte ma perché ad esempio adesso noi ne abbiamo un po' ma ovviamente nelle regioni sud però ad esempio qui una delle azioni è l'innerbimento sul vignetto ok non è una cosa che è mai stata molto raramente fatta quindi quello mi cambia completamente mi cambia completamente e anche i tipi di lavorazione che investono al discorso alla fine erosione a parte il fatto della russ dovrebbe considerazione solo quella reale ma non quella reale ma non quella reale quella che ha poi c'è il problema enorme e noi non consideriamo che ci fermavano questi tipi di erosione delle frane di suolo le frane superficiali che sono le frane di suolo i famosi praticamente sono i flussi sono i slips vediamo ok che sono le frane quando il suolo si salva un assoluto c'è l'imperdabile una margillosa e una margillosa e una margillosa ok questa cosa qui i modelli per calcolare se vediamo no ci sono sono i modelli di stabilità diversanti e però ci sono la dimensione è fatta vedete la pucci c'è come il bacino la pucci può essere grande quanto si parla poi vi racconterò dove la medicina un fuori urbano un aletto un aletto che è successo a Roma però ovviamente qui si tratta di mettere i piani forestali di indirizzo territoriale che sono una normativa nazionale del ministero che dovrebbero essere uguali per tutta Italia perché poi il ministero vuole fare la carta forestale d'Italia nuova con tutti i dati omogenei ci credo l'anno prossimo però quella roba lì dà una serie di indicazioni su come deve essere fatta la carta forestale ed indirizzo agronomico per cui alcuni elementi agronomici ci devono essere non c'è divisione tra l'agricoltura l'agricoltura ad esempio noi in Piemonte abbiamo la fortuna di avere non solo nelle altre come sono messe sull'anagrafa agricola dove appezzamento per appezzamento addirittura adesso c'è 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 però ad esempio il land cover che c'è adesso a Piemonte ha qualche problema secondo piano perché in parte è fatto manualmente in parte con rilievo semiautomatico no no quella è fatta sulle particelle però fatta sulle particelle non con la domanda grafica no quindi su particelle molto grandi c'è una prevalenza eh sì ma invece sono dei foresti perché l'anagrafa si immagino cosa dicevi dei foresti si ma della carta agroforestale i piani forestali in indirizzo territoriale avranno una carta ai fini agroforestali più forestali che non agricoli però no allora mentre nel passato si si disinteressavano della parte agricola adesso l'hanno messa lei comunque la copertura è totale però ad esempio mettono noccioletti ammessi vediamo se c'è la sessione va bene beh Igor vieni a chiudere ma vieni a chiudere ma vieni a chiudere la sessione sicuramente scusa 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 va bene mi sono allontanato perché noi che siamo qua adesso ci mettiamo a mangiare e bere e mentre voi purtroppo eh non potete ma al di tutto direi che è stata una giornata ultraproficua mi è sembrato no? che abbia raggiunto gli obiettivi di contatto di comunicazione e di possibile aumento della collaborazione domani alle nove puntuali ricominciamo i funzionari della regione che oggi non potevano non hanno potuto intervenire hanno terminato di fare il lavoro che dovevano fare assolutamente oggi e quindi ci saranno domani mattina cominciamo con loro alle nove quindi tutto sarà scalato di una decina di minuti alle nove puntuali aspettiamo che ragione adesso appunto offriamo un piccolo un piccolo rifresco grazie Grazie.